Veniamo però a quello che è successo ieri perché se ne parla ormai ininterrottamente, è arrivata anche la valutazione da parte di Rocchi che poi andremo ad approfondire. Rocchi dice massa arbitrato in modo perfetto, anche tutte le ammunizioni sono state corrette, dice Rocchi, perché entra nel dettaglio e nel merito della famosa ammunizione che ha portato poi all'espulsione di Lukaku perché Rocchi dice non è stata tanto l'esultanza, che adesso vi faccio anche vedere, insomma che abbiamo visto tutti, a portare il cartellino giallo. Ma è stato il battibecco, quello che Lukaku ha, il litigio di Lukaku con i tifosi, che invece è sembrata una provocazione e quindi ha portato all'ammunizio. Ma un'informazione, Rocchi è quello che l'anno scorso aveva detto, che aveva commentato positivamente il discorso del fallo di Ranocchia su Belottis, è Rocchi? Era Rocchi l'anno scorso? No, non l'ha commentato positivamente, Rocchi ha detto, si è comporto d'arbitro, si è comporto d'arbitro, ha fatto l'arbitro, ha detto che è stato un errore. Domanda, il signor Rocchi che è quello stesso lì, giusto per ricordarlo, ma come ha giudicato l'intervento di Lukaku cinque minuti prima, pochi minuti prima? Da giallo e non da rosso. Da giallo e non da rosso. Per lui è giusto giallo? Ma rivedendolo sinceramente anche a me non sembra un rosso. No, per me quello è un rosso netto, non giustifica niente, però la genesi di un comportamento che poi sicuramente approfondiremo, nasce da un mancato rosso clamoroso, che senza alcun motivo parte un giocatore come Lukaku, col peso di Lukaku, parte, colpisce in pieno una caviglia, col piede a martello una caviglia, rischiando di spaccare, di far troncare la carriera a un giocatore. Per me quello, se non è quello è rosso, non ho capito che cosa è un rosso diretto. Non lo so, fatemi sentire anche l'appo, poi ovviamente vedremo le immagini, ascolteremo anche se c'è stato molto, ci sono stati molti insulti razzisti a Lukaku oppure no, insomma cercheremo di farci un'idea completa. Intanto partiamo da qui, la provocazione non è una provocazione, ma Martinelli che dice lì il rosso... Non è una provocazione, scusa, magari provocherò su altre cose, ma lì è una constatazione. Io oggi ho sentito tre, non uno, tre ex arbitri, di cui ha tre opinionisti, tutti e tre in televisione, tutti e tre molto noti, a me interessa zero di sentire, di fatto l'unica cosa che so, l'unica certezza che ho è che non era da espulsione, ma non perché lo dico io, perché l'ho pensato, tutti hanno detto giallo, però tutti e tre hanno detto la stessa cosa, però tutti hanno detto ha rischiato, più o meno sembravano due nominatori che si fossero messi d'accordo, ha rischiato, ma è giusto il giallo. Consorato da questo tipo di valutazione che è di carattere arbitrale e sicuramente del tutto disgiunta da quello che invece è un episodio di noi che dobbiamo ringraziare il fatto che Lukaku non è stato espulso perché i razzistelli che si parlano dentro la folla possono impunemente fare quello che vogliono. Il problema è che io purtroppo ogni volta che c'è Juventus-Inter, purtroppo c'è sempre questo tipo di situazione, di polemiche, di tensioni, è una partita sofferente, una partita che è disperante. Quindi io purtroppo è da stamattina alle otto che la devo raccontare, ne ho parlato per sette ore, sette con tantissimi ospiti della Juventus, dell'Inter, di generalisti, con tutti, ex arbitri, proprio per cercare di capire, a me interessava poco fare una valutazione di carattere fazioso o parziale, a me interessava fare una valutazione di carattere giornalistico, perché quello che è accaduto è perché purtroppo... Ma non c'è da fare faziosi su questa roba qua. E invece oggi ho sentito dichiarazioni di carattere fazioso e purtroppo già oggi su tutti i giornali italiani, tutti i quotidiani italiani, non si è parlato di razzismo. Oggi non si è parlato di razzismo. Dopo, nel corso della giornata, il titolo oggi era Gazzarra, Rissa Far West, ma di razzismo nessuno parlava. Cioè, stamattina i giornali hanno fatto un po' il cosiddetto fallo di confusione. Quando si dice in Italia è colpa di tutte e poche di nessuno. Beh, oggi sono arrivate tante dichiarazioni. No, sto parlando di giornali, sto parlando dei tre principali quotidiani sportivi. E i tre principali quotidiani sportivi oggi, e anche su principali quotidiani politici, tranne dopo, ripeto, nel corso della mattina e del pomeriggio, i quotidiani hanno cominciato a correggere il tiro e si è parlato più e finalmente del razzismo. Ma se uno vuole vedere oggi i principali quotidiani sportivi, si parla Far West, Gazzarra, ah, che brutto spettacolo, di Lukaku e di ciò che ha subito, della vicenda del razzismo, si è parlato quando? Quando la comunità internazionale e la voce di calciatori e di altri personaggi si è elevata e hanno detto vergogna in Italia, altrimenti io penso che oggi non si sarebbe parlato di razzismo, perché probabilmente il fatto è che noi siamo qua ancora a fare il razzismo, ci dà fastidio parlare di razzismo. Ma tu sei proprio certo che la parola razzismo è la parola completamente pertinente a queste cose gravissime che sono successe? Posso spiegare il mio punto di vista perché secondo me la parola razzismo non è completamente pertinente? Sì, va bene, razzismo è ignoranza, possiamo chiamare ignoranza e chiamare ignoranza. No, spiego per me la differenza, se posso, così. Ma non è una provocazione, è proprio un dibattito, sono aperto al dibattito perché, grazie a Dio, non sono coinvolto, quindi... No, l'ho fatto l'aspettatore, no, non ho faziosità. Ma non lo so nemmeno io, non ho faziosità perché non mi interessa, potrebbe essere anche al contrario. Potrebbe essere Cremonese e Empoli, potrebbe essere Cremonese e Empoli, era uguale. È stato apostrofato dai tifosi del caldo di tre anni. Scusami, aggiungo solo questo al dibattito che mi sembra molto interessante, poi ripeto, vedremo anche, ascolteremo l'audio così anche l'apo lo potrà riascoltare. Dobbiamo aggiungere al dibattito, visto che state parlando razzismo, non è razzismo, razzismo, la Juventus, che fin da subito ieri ha detto, andremo ad individuare chi si è reso protagonista di queste cose e non verrà più allo stadio. Ci mancherebbe, è giusto, sono centinaia, voglio vedere come si fa. Ma è giusto che questi qui non vanno più allo centinaia, non decine. Quando hanno dato dello zingaro a Costi, in Spezia, la società non ha detto una parola contro i propri tifosi, quindi la Juventus in questo sta facendo scuola da anni. Anche più rispetto a Milano e Inter, se vogliamo, perché la Juventus nel suo stadio riesce ad individuare le persone, riesce a non farle entrare. C'è questo tweet della Juve che è arrivato in mattinata, come sempre sta collaborando con le forze dell'ordine per individuare i responsabili di gesti e urla razzisti, verificatisi ieri sera. Quindi la Juventus in qualche modo ammette che c'è stato un episodio di razzismo, la stessa Juve. Anche in questo caso, nei confronti dei responsabili, sarà applicato il codice di gradimento, che è quel codice che comunque chi va allo stadio un firma e che permette alla Juventus poi di non far entrare i tifosi che si rendono protagonisti di violazioni di questo codice. Io do il benvenuto anche tra poco a Giordano Mischi, che è arrivato, si sta sistemando. Quindi ecco, volevo aggiungere questo, perché la Juventus parla apertamente di razzismo e di episodi di razzismo. Secondo me la parola razzismo non è completamente pertinente qua. E ho fatto ricorso alla mia memoria e ho identificato un fatto precedente in cui secondo me quello è il razzismo senza se e senza ma. Vi ricordate il caso di quando alla Lazio arrivò un giocatore ebreo di colore che si chiamava Aaron Winter? Un po' di anni fa, no? Non fu l'unico tra l'altro. Comunque io mi ricordo Aaron Winter, un olandese. Arrivò alla Lazio e i tifosi della Lazio non lo accettarono. Fuori da dove si allena Lazio, Formello, come si chiama, scrissero Winter Raus, tra l'altro usando un termine tedesco che ricordava i campi di concentramento, quella pagina ignominiosa della storia umana, no? Ecco, quello secondo me è il razzismo. perché non c'è alcuna motivazione a una contestazione, diciamola così, a degli improperi, se non il colore della pelle e la razza di questa persona. Perché non c'era stato un... non aveva giocato bene, male, costato, pole... non ha neanche detto una parola a questo ragazzo. E questo ragazzo se ne andò proprio, non giocò mai. Aaron Winter è un giocatore dell'Inter, però non è stato l'interno. Questo per dire cosa, perché sei partito indietro troppo, vai. No, spiego che questo, per me il razzismo è quella roba lì. Il caso di ieri è un caso di becerume, volgare ignoranza, che non è secondo me razzismo. Perché? Perché ieri nasce, per questo dicevo, nasce da quello che era una mancata espulsione, secondo me e secondo gli altri, ma siccome altri no, ma comunque è importante, da un fatto di gioco, per cui qualcuno si sente defraudato e comincia a inveire contro un calciatore. Però puoi inveire. Certo, no, e invece, secondo me, no, ma nel caso specifico hanno fatto l'ulato perché lui è una persona di colore. Ci fosse stato, non so, Cassano, gli avrebbero detto, gli avrebbero detto, se bari vecchia, colea... Però secondo me la tua teoria è un po' scivolosa, perché se diciamo così continuiamo a giustificare. Si può crescere. Giustificare. No, si può crescere, nel senso che tu non devi... Non accetto il verbo giustificare. Io non sto giustificando, sto dicendo che è un fatto gravissimo, ma non è razzismo, è un'altra cosa. Il razzismo però, se Lucacco l'ha vissuto come razzismo, ti è caduto il microfono. È un po' più elevato. Torno da te, queste sono le parole di Lucacco, che però lui l'ha vissuta così, quindi va rispettato per questo. La storia si ripete e spero vengano presi i provvedimenti. Ci sono già passato nel 2019 e ora di nuovo nel 2023. Spero che la Lega prenda provvedimenti, che è un po' anche le reazioni che ci sono state, anche diciamo la verità, da chi non ha visto la partita. È chiaro che poi Mbappé che ha postato con la foto di Lucacco, è chiaro che se tu prendi la notizia, vedi la foto, si parla di razzismo, siamo tutti contro il razzismo, siamo tutti dalla parte di Lucacco. Io credo che il tema, questa deve essere la premessa. Dobbiamo essere contro le offese, di qualunque motivo, questa deve essere la premessa. Secondo me la discussione diventa più interessante sul fatto, ed è una domanda, Lucacco ha in qualche modo, lasciamo perdere la reazione stupida che c'è stata, Lucacco ha in qualche modo provocato i tifosi della Juventus con quell'esultanza, facendo così dopo. Ecco, lì la discussione secondo me diventa più interessante, perché allora c'è l'ammunizione come dice l'AIA, come dicono gli arbitri, giusto ammonirlo, oppure non c'è l'ammunizione. Fammi salutare anche Giordano Mischi che è arrivato, ciao Giordano, ti do subito la parola, quindi ti faccio subito entrare nel tema, poi andremo a vedere le immagini. Allora, faccio subito una premessa. Ululati, Corio, tutto quello che vuole, la cosa è schifosa, punto a capo. Poi, ieri sera sentivo dire l'Inter dice, l'Inter dice, l'Inter dice quello che gli pare all'Inter, io ti dico solo una cosa, io non ero allo stadio, ero davanti alla TV, era chiarissimo, ma poi Cesari ha fatto vedere a Mediaset, muto, muto, ragazzi, è inequivocabile, il labiale è muto, muto, ammunizione, secondo giallo, ammunizione. Ci sta, però... No, 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 lecito, io avrei risposto, guarda, credimi. Ma il casino viene prima, però, Giordano, il casino viene dopo il fallo, il casino comincia lì. Ma io cosa ho, ho fatto una premessa, ho detto, e poi oggi, credimi, ho anche sentito, io solitamente vado dall'altra parte, questo è stato in curva sud, chi c'è stato ha detto c'era un gruppo di 30-40 persone che gli hanno gridato di tutto, quindi assolutamente io sto condannando... Cioè la percezione non era di tutto uno stadio? No, 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 non era uno stadio, non era uno stadio perché, guarda, credi, assolutamente... Con i lunati razzisti come avevamo sentito, per esempio, con Coulibaly a San Siro? No, assolutamente, c'era un fese, offese a Lukaku, Lukaku ha reagito, per amore del cielo, è umano, per dire, chiunque di noi al momento potrebbe reagire, però è chiaro... La mia riflessione è, se l'arbitro, se tu dici muto, muto, non con la testa giù come ha fatto con il Belgio, non raccontare queste cose... Se Massa avesse avuto la percezione di un intero stadio razzista, o una curva, diciamo la curva, razzista nei confronti di Lukaku, secondo me si sarebbe ben guardato dal tirare fuori il cartellino giallo, ecco, questa è una mia obiezione, però voglio sentire l'apo, andiamo un attimo in pubblicità, ripartiamo da qui e dalle immagini, a tra poco. Rieccoci allora, io devo ripartire dall'apo De Carlo, poi andiamo a vedere il primo contributo che arriva direttamente dagli spalti, l'apo. Beh, io devo dire che rimango sempre un po' stordito, io sentivo anche fuori onda, parlavamo c'era Giordano Minsky, parlava con Leonardo Martinelli, io ovviamente ascoltavo, ma tutto sommato riassume anche in parte un po' questo tipo di atteggiamento che c'è dal nostro paese, rispetto al nostro paese, quando si parla di alcuni temi, per esempio quando è razzismo non è mai razzismo, cioè è razzismo ma non è proprio razzismo, quando si parla di fare dei macro discorsi che rappresentano poi il nostro paese in tutto quello che poi è il riassume, cioè... Però preferisci fare di tutte le erbe un fascio? No, perché se mi attacchi così, tu preferisci fare di tutte le erbe un fascio? Sto parlando di un riassunto di ciò che facciamo noi, sto parlando di ciò che facciamo noi come Italia, come paese Italia, però ho riassunto, dicevo perché quando parliamo di argomenti importanti, di qualunque argomento, carattere politico, di carattere sportivo, tutte le volte è un chiacchiericcio insopportabile, non siamo mai d'accordo su niente, nemmeno quando c'è qualcuno, se qualcuno muore, bisogna vedere che cosa gli ha detto, se succede qualunque cosa, di temi grossi, importanti o di temi minimalisti, c'è sempre il però bisogna vedere, mi ricordo anche quando Materazzi colpì Zidane, però bisogna vedere cosa ha detto, perché sai, in un campo di calcio succede che gli dicono, accidenti ma Zidane, come giochi male per farle nervosirlo, evidentemente nel campo di calcio si dicono qualunque cosa, invece no, c'è la gente che diceva, su Zidane chissà cosa gli ha detto, e venne espulso chissà cosa ha detto Materazzi e Zidane, ma noi in Italia ci fu il dibattito dicendo chissà cosa gli ha detto Materazzi, questo ti fa già capire che non c'è una volta in cui non ci si salvi, cioè noi stiamo facendo il distingo, stiamo andando sul su, però. Io non l'ho condannato? Scusa, io non l'ho condannato. No, non lo stai condannando, non lo stai condannando, Giordano, ti lo dico per quel motivo. Permettimi, poi ti dico per quel motivo, ho detto, ho esordito dicendo buonasera, è uno schifo. Però, hai detto però. No, 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 ho detto se giudichiamo invece l'ammunizione a livello di ammunizione, ho detto solo, non raccontare delle storie che ha fatto la stessa esultanza del Belgio, Salernitana-Roma. No, no. Non avresti detto però. Muto l'ha detto sì o no? No, adesso non so. No, adesso ve lo faccio vedere. La ricostruzione che viene fatta e che hai fatto fuori onda, a me lascia, mi sconcerta perché tu mi stai già, ti dicevi, vedrai che dirà che l'Inter ha detto, e allora uno dice, vabbè, allora facciamo così, tutte le cose che depongono in una sola direzione vanno messe in cantina. Risaltiamo il fatto che Lukaku avrebbe, secondo la tua indicazione, è provocato. No, adesso lo vediamo. Perché quello che vediamo avrebbe provocato i tifosi. No, 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 è stato provocato, tu ho detto. No, tu hai detto. No, 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 poco fa, hai detto, perché io voglio ricapire molto bene quello che hai detto tu prima. È stato provocato. In onda e fuori onda, ti ho sentito. Sì. E siccome in onda e fuori onda, tu dici, sì, vabbè, d'accordo, tu hai detto prima, è vero, d'accordo, gli ululati uno schifo, l'hai detto, lo hai detto. Dopodiché però dici, però, come però? Però niente. Però non esiste. Perché se tu ti senti dire, il tema del razzismo, non è che tu sei un razzista, non è che io sono un razzista, non è che Leonardo è razzista, è ovvio, ma è il modo nostro. Tutto italico di affrontare le cose, c'è sempre il però, il ma, e se squalifichiamo la curva della Lazio c'è la sospensione, e se c'è la Roma gli diamo un'ammendina perché sì, hanno fatto ancora Zingaro, Malea, Atastankovic, però Murino ha fatto così e quindi non si interviene mai. Cioè noi ogni volta che dobbiamo intervenire su vicende in cui un pubblico si comporta in modo vergognoso e non c'è mai la lezione definitiva, perché se tu squalifichi una curva per almeno tre giornate o addirittura un'intera stagione, stai sicuro che non lo fanno più. Ma siccome noi siamo quelli dell'ammendina da 12 mila euro, cosa vuoi che ne prendi l'ammendina? Perché qualcuno qua sta dicendo che abbiamo esordito dicendo che ci mancherebbe altro che non prendono il DAS, è più di dire questo che dobbiamo dire. Ehi, dobbiamo dire questo, che quando si parla di quel detto non sai se è razzismo. Tutti i fucili resti, quando io ho detto è un fatto grave, secondo me il razzismo è un'altra cosa, questo è un fatto gravissimo, mettono il DAS, ho spiegato anche che cos'è il razzismo secondo me. Secondo me quando tu dici che uno è una scimmia, perdonami, se non è razzismo questo, non so cos'altro sia, se dire U U U a un calciatore o una persona, ma l'ho capito, perdonami, ma se tu fai U U U in uno stadio, che tu non lo chiami razzismo o lo chiami in un altro modo, per me è razzismo, per te non lo è, per me è un atto vecero, vergognoso di ignoranza, atto a provocare una reazione, questo secondo me è quella roba lì. Tutto il mondo sta parlando di razzismo in questo... Posso dire che per secondo me è un certo semplicissimo di razzismo, voglio solo come me, perdonatemi, dare della scimmia a qualcuno così, a casa mia è un razzismo. Fatto questo assunto e poi vado a te Giordano, perdonami, vorrei chiarire il concetto che a prescindere da come lo chiamate voi, resta il fatto che invece di concentrarci su una punizione dura, Rocchi fa il compitino da A e B, perché essendo non è un essere umano, è un androide lui, lui pensa da A a B, siamo nell'era della tecnica. Lui dice, la munizione ci sta, non è che non condanna... No, lui condanna, non condanna, no, perché non condanna mai, lui difende sempre la sua parrocchia, perché se tu hai uno strumento che è il regolamento, qui ci tengo molto che capiate cosa intendo dire, l'arbitro ha un regolamento che è un codice, vuol dire che è uno strumento che è fondamentale perché il regolamento va da A a B. Ora io ricordo, vorrei ricordare un po' a tutti che non ci sono state due o tre, non decine ma centinaia, migliaia di esultanze nel mondo che avvengono sistematicamente ogni settimana con gente che fa così, ma non lo fa soltanto, l'ho fatto sotto le curve. Non è la stessa situazione. Non è la stessa situazione. No, non è la stessa situazione. Ah, tra l'altro... Lui ha subito un atto per velocità di... Leonardo, io non ti ho interrotto prima. Non ti ho interrotto prima. Però devi aspettare un minimo di interlocuzione anche tu. Lapo, scusami... Sembra che tu abbia... No, no, no. È la parola in cui ti dico... È giusto lasciar finire l'apo, però mi permetto di aggiungere questo, perché così diamo un senso anche a quello che stiamo dicendo, visto che abbiamo introdotto il discorso di Rocchi che ha giudicato corretto l'arbitraggio, tutte le ammunizioni, quindi per Rocchi è stato corretto ammunire Lukaku e non Esperio. Infatti io quello ho detto solo. Con l'intervento. Io ho detto quello. In scivolata. E per Rocchi è stato corretto ammunire Lukaku dopo il gol. Io vado a riprendervi quello che dice il regolamento, così aggiungiamo qualcosa, poi ne discutiamo. Ecco, Rocchi quando dice ha fatto bene ad ammunirlo l'apo, non si riferisce al gesto che abbiamo visto prima in fotografia. Scusami un attimo. Lo rivediamo un attimo. Rocchi non si riferisce a questo gesto. Lo vediamo un attimo. Eccolo qua. Rocchi non si riferisce, poi tu ci puoi credere o non credere. Rocchi dice, non è questo il problema, dice Rocchi. Il problema è che dopo aver fatto questo gesto, lui si è fermato a litigare con i tifosi. Muto, muto, stai muto. E per Rocchi quella è una provocazione d'ammunizione. Il regolamento dice questo. Un calciatore deve essere ammunito anche se la rete non viene convalidata se si avvicina agli spettatori in modo tale da causare problemi di sicurezza e o per l'incolumità si arrampica alla recinzione. Agisce in un modo provocatorio o derisorio. Poi si copre la testa al volto con una maschera eccetera eccetera. Quindi nessuno di queste cose comprendeva. Secondo lui agisce in un modo provocatorio e provocatorio. Andiamo al muto. Allora siccome il regolamento è noto citato. Benissimo. Non è stato derisorio. Perché non è stato derisorio. Provocatorio. Non è stato provocatorio. Tu lo dici. Quindi se io ti dico. Tu lo dici. Casomai è stato di replica, di reazione che è una cosa un po' diversa. Allora siccome il regolamento non mi sembra che scriva a meno che non ci siano degli urlati razzisti. Perché il regolamento arriva da A a C, da A a D. Non arriva a coprire tutte quelle che sono le evenienze. Possiamo articolare un po' anche noi però. E se è così. E qui chiudo. Era il discorso che volevo fare prima Leonardo. Perché volevo che tu mi rispondessi su questo. Ti rispondo. Se devi rispondermi. Però io la mia idea volevo esprimere. È l'idea di rispondere su quello che dico io. Non è che devo seguire che nei tuoi meandri anche mentali. Eh. Io. Ho fatto vedere quello lì. Ho fatto vedere quello lì. E stavo cercando di spiegare sulla base di quello che ha fatto vedere. Infatti io se lo so detto. Perché l'apo. Non riesco a finire. Perché se non riesco a finire. Lasciamolo finire. È difficile che tu possa replicare su cosa che gli ho detto io. Credo che tutti gli ascoltatori e tutti gli aspettatori di Top Calcio 24 e della Lombardia. Abbiano visto nella loro vita anche nei campi amatoriali. Gente che fa così. Persino bambini che poi copiano. Infatti per me è un tipo di esultanza che proprio trovo sgradevole. E mi ha altro fastidio. Niente. È un fatto. Abbiamo raccolto soltanto oggi 100 immagini di gente massiva. Però se gli arbitri ti dicono che non è quello il problema. Ma non è la stessa cosa. Il problema è che se tu vai sotto una curva. E fai così. Oppure fai così. Oppure fai altre cose. Io vorrei ricordare che Ibrahimovic è stato ammonito perché ha fatto così. Perché di fatto lo chiamavano Zingano. Però noi siccome diciamo che siamo contro il razzismo. Però ammonito Ibra perché ha fatto così dopo che lo insultavano per il razzismo. Abbiamo avuto Ken che a Cagliari Juventus di tre anni fa fa così. Ammonito perché? Perché ha fatto così davanti al pubblico che gli guidava di tutto. Abbiamo un giocatore che si chiama Lukaku che viene con unulati prima, durante e dopo il rigore. E anche quando è entrato. E viene ammonito perché lui fa muti adesso. Basta. E gli dice muti perché dovete piantarla di continuare fuori l'ulati. Però quando un italiano fa muti così e va provocatoriamente sotto una curva. Niente. Zero munizioni. Però noi non siamo un paese razzista. È finito? Allora aspetta Leonardo vi faccio replicare. Voglio farvi vedere le immagini con l'audio anche direttamente dalla curva della Juve. Andiamo un attimo in pubblicità e ripartiamo da qui. Rieccoci intanto. Vi leggo questa notizia. Indagati Lotito, Tare e altri cinque. Il presidente della Lazio Claudio Lotito e il DS Iglitare sono indagati dalla procura di Tivoli assieme ad altre cinque persone nell'ambito delle indagini su operazioni compravendita di calciatori. Quindi, caro, lo leggiamo, lo stiamo leggendo dal profilo Twitter di Biasino. No, no, continuiamo pure. Indagati i Friedkin, Pallotta e i dirigenti della Roma. Presidente e vicepresidente della Roma e l'ex presidente Pallotta sono indagati nell'inchiesta relativa alla compravendita di giocatori. Tutto sono nove gli indagati oltre alla stessa società. Cioè, mischi, tutta quella opinione pubblica, no? Dove si indignati, tutti indignati, indagano solo su di noi. Vedi che pian piano, insomma, la propria procura. Il tempo... Tu dici, con noi vanno un po' più veloce. Però, insomma, pian piano... Poi cercheremo di approfondire anche questo tema. Volevo farvi... Devo ritornare da Martinelli, ovviamente, da tutti voi. Però volevo farvi ascoltare questa prima parte, anzi, questa prima prospettiva. Perché, come vi dicevo prima, secondo me una parte della curva si è comportato in modo razzista. E sono d'accordo. Ma la percezione dell'arbitro in campo probabilmente non è stata quella di una curva completamente razzista. Sentite, qui siamo ai secondi che precedono il calcio di rigore e poi tutto quello che succede dopo. L'inquadratura è dalla curva della Juventus. Prego. Ecco, bollano! Raccolando! Adesso mostra! Rassetto! Per il tempo di un'interessa di procura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'erano improperi, ci sentivano urla, ma non c'erano prima del rigore tutti questi urlati che mi dite voi. Cioè, secondo me... Giordano ti mando 3-4 video, te li mando io. Adesso te li faccio vedere, era solo per farvi capire quello che dicevo prima, che secondo me la percezione dell'arbitro e anche dei giocatori della Juventus, che invece sono andati contro Lukaku quasi per dirgli di non provocare i tifosi, non è stata quella di una curva razzista. Ma questo è il mio pensiero, secondo te no? La questione non è di curva razzista. È evidente che non tutti i 4.000, 5.000 che erano dietro facevano UU. È altrettanto evidente che erano una cinquantina, un centinaio. Comunque erano parecchi, perché si sentivano... Abbiamo tre angolazioni diverse, con tre urlate diversi e quindi evidentemente qui è un video che io avevo visto sotto relativamente, gli altri tre video invece principalmente... Però in questo si sente... In realtà la qualità è tutto un mischione, per cui io francamente si è capito poco. Diciamo che gli altri sono molto più carinetti. L'unulato, diciamo razzista, lo senti quando arriva il cartellino rosso? No, da questa posizione, tra l'altro è una posizione un po' più in alto rispetto a quelle dove sono quelli, cioè Lukaku è di fatto rivolto a quelli che sono nelle prime 5-6 file. Qui siamo almeno in trentesima fila, quindi evidentemente ha una percezione diversa. È evidente che il peto poi si crea un mischione. Abbiamo sentito a un certo punto... Ci si è sentito un casino, ma non si capiva nulla. Però io volevo identificare una cosa che prima ha detto Lapo, che io ho detto... Assolutamente non ho detto prima. Allora, io il discorso del razzismo ho detto mi fa schifo e ti ho detto che sicuramente può essere anche stato provocato. Su questo non ci piove. Però tu, siccome prima la domanda del conduttore che mi è stata fatta, mi è stata rivolta, era da ammonire o non da ammonire? Il tema è questo. Non è che ti chiedo se sei contro il razzismo o non sei contro il razzismo. Se io vengo, se io vengo, io lo so, ci sono stati più di un giocatore che è stato continuamente bersagliato, però se io ti vengo a rigore fatto, quindi dovrei anche sbollirmelo un po', quindi cercano di coprirmi perché i giocatori... E' su questo che io ti vandavo contro. La tua ricostruzione per me è fallace. No, ma aspetta, io ti ripeto, con Vino Minaccioso, muto, 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 sei da morire, non può fare altro l'arbitro, secondo me. Poi voi mi dite che non è così, va bene. Martinelli, poi vedremo anche l'inquadratura stretta, diciamo, dalle riprese di Canale 5. Scusa, Eternino Mitaccio, non è quando ha segnato con la Svezia che invece testa bassa e così, no. La stessa identica, la stessa identica. No, dai, Lapo, dai. No, noi dai, adesso lo guardiamo, però. Adesso lo guardiamo, però, non mi devo fare la terza ricostruzione. No, 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 è questo che mi dispiace. Adesso però lo guardiamo. Che abbiamo più ricostruzione. Lapo, lo guardiamo adesso, eh. Io cerco di fare la mia come l'ho vista io e così, e mi sembra che... Cioè, per me, a parte che, parto dalla fine, lo spettacolo anche dei calciatori è indecente. Sì, poi c'è stata quella rissa. È indecente. Ah, poi sì, è uno schifo, certo, sono d'accordo. Comunque, vediamo come la rivedo io. Comincio da dove sono partito. C'è questo fallaccio di Lukaku, che non viene espulso e viene dato il giallo. Secondo me è sbagliato, secondo altri giusto, va bene. Comincia qualcuno ad attaccare Lukaku lì, in quel momento. Attaccare Lukaku ogni volta che cominciano a parlare e cominciano i bu. Perché io li ho sentiti benissimo, i bu. Non in occasione del rigore, ma li ho sentiti da quella parte lì, dove c'era stato il fallo, cominciano ad arrivare i bu. Poi la partita va avanti e il resto. Lukaku si innervosisce, ovviamente. Perché tu sei nella tensione agonistica, ti senti i bu, ti senti, non so, scimmia, che ne so cosa gli han detto, però sentiva che c'era qualcuno che se la prendeva con lui per il scolore della sua pelle. Giusto? Sì. Su questo è così. Arriva il rigore. Sì. Arriva. Lui, c'è molta tensione, perché lui non è dalla parte che sono quelli dell'Inter, è dalla parte che sono quelli della Juventus. C'è molta tensione e questi bu, immagino, che andranno da questa parte qua, arriveranno anche lì e insomma così. Lui batte il rigore. A quel momento, lui che è vittima, perché finora è vittima, perché lui poteva essere espulso, ma l'arbitro ha detto di no, quindi si va avanti. No, lui a quel punto è vittima. Chiamano razzismo, chiamano becerume, chi è vittima? Nel momento che tocca il pallone e fa gol non è più vittima, diventa responsabile. Perché fa? Ha quel gesto lì che non deve fare, fatemi finire, che non deve fare perché è ben diverso. Perché poi, se tu c'hai una curva che è in tensione, non vai a fare, ok, può essere simile a quello fatto in nazionale, ma era un altro ambiente. Un intelligente, allora un giocatore intelligente, a mostra la seconda, secondo me è poca intelligenza nel fatto specifico, non è stato intelligente. Primo fa, è già quello da ammonire. Va avanti, gli fa muti, muti, è ovvio che è una provocazione e ci vuole giallo. Quindi lui è vittima. Non c'è dubbio, sono beceri quelli. Non c'è dubbio, peggio, fai quello. D'aspo a vita, sì, però lui non si comporta nel modo da professionista, scusa. Ricordo solo che l'AIA... E non puoi dire che non sia questa la ricostruzione. No, adesso arrivo l'Apo, ricordo solo che Rocchi dice non è stato ammonito per l'esultanza, ma è stato ammonito per quello che ha fatto. Può di quel che vuole Rocchi, ognuno di noi avrà una propria opinione. Vi faccio vedere ancora il rigore, ancora dalla curva della Juve, da un'altra prospettiva, vediamo se qui si sente di più. Sì che ce l'abbiamo. Dai calmo, Mischi che ce l'abbiamo. Vi faccio vedere invece da un'altra prospettiva, che è questa qua. Lo sbaglia, lo sbaglia, lo sbaglia. Allora, qui li abbiamo ascoltati molto più forti, molto più nitidi. Ci sono, io li avevo sentiti, io col televisore li ho sentiti. È la stessa Juve che dice condanniamo gli insulti razzisti. Ma non solo dopo, prima del rigore ci sono stati... Sì, sì, quello che dico io è cercare di trovare una motivazione alla munizione, perché altrimenti, questa è la mia idea, non tanto alla reazione ma alla munizione. La mia idea è che, scusami Lapo, che se l'arbitro in campo, massa, ha la percezione di una curva che in quel momento sta facendo dei cori razzisti, degli ululati razzisti nei confronti di Lukaku, ma come fai a tirar fuori il cartellino giallo? Secondo me, questa percezione, lui non l'ha avuta. Ma l'hai sentito nettamente che non era un Buddha curva intera, ma erano dei Budi di pochi, di isolati, condannabili assolutamente, da condannare. Quella è la premestra, Juve li prenderà e li lascerà fuori. Il discorso è, poteva evitare Lukaku dopo il rigore di fare quello? Sì. Doveva, secondo Lapo no. Secondo me no, secondo me doveva fare più peggio. Un errore. Secondo me poteva, doveva fare più peggio. Però ti espellono dopo, subito. Penso per lui, pazienza. Siamo mica nel far west che uno si fa giusto da solo. Allora, io entro nella logica del fatto che io ritengo Rocchi una persona inadeguata al ruolo che ricopre, perché una persona che dice quello che ha detto è grave, Rocchi dice delle cose gravi, in quanto Rocchi deve sapere perfettamente che un arbitro ha la possibilità, ha uno strumento, che è quello di interrompere anche la partita. Ricordo tutti la vicenda Zoro, dove l'arbitro interruppe la partita. Non ha avuto quella percezione? Beh, figurati se un arbitro che interrompe la partita perché quattro, dico quattro tifosi, che tra l'altro erano quattro tifosi dell'Inter, avevano detto delle cose razziste nei confronti di Zoro e abbiamo avuto anche la vicenda Boateng, abbiamo avuto persino una ramichevole delle vicende dove un gruppuscolo di tifosi aveva fatto UU ad un giocatore. Però Boateng non reagì come ha fatto lui. Non si è arrabbiato. Se ne uscì, se ne andò. Fu ancora il peggio. Se ne andò. E fece anche bene. Un fu provocatorio. E fece anche bene. Noi invece, il consiglio che facciamo, noi non ci mettiamo dal punto, diciamo no al razzismo, ma no al razzismo è una cosa brutta, no? E poi, dopo che abbiamo detto no al razzismo in un nanosecondo, continuiamo a fare però è perché Lukaku non deve fare... No, il dibattito, scusa Bernardo, però io non riesco veramente mai a parlare. Le io faccio un discorso che dice il nostro... No, non è razzismo, non è razzismo. Un secondo. Cioè il nostro dibattito è non razzismo. Ma come? Eh, non razzismo. Però Lukaku che è un giocatore che guadagna e non deve fare... E quindi il tema è Lukaku. Non è il razzismo come fermarlo, che pena dare, cosa fare, l'ipocresia dell'opinione pubblica, l'opinionistica invece di dire non razzismo vediamo di trovare degli strumenti per fare in modo che negli stadi queste cose non avvengano più, cercare di fare cose serie come hanno fatto anche gli altri stati. No, il nostro tema è... Ma era razzismo? Ma Lukaku? La poca. Era vera... Aspetta, Giordano, io non ti ho detto Giordano, Giordano, Giordano. Sennò per forza dura di più il mio intervento. E chiudo dicendo magari se invece di dire però Lukaku, però Lukaku, facessimo un tavolo in cui diciamo, boh, vediamo di trovare un sistema per il razzismo, perché non è Juventus Inter. Ma perché però, Usidi, però? Non è Juventus Inter. Noi non abbiamo usato però. Non abbiamo detto, no, abbiamo detto, quelli hanno fatto questo e Lukaku ha fatto questo. Buon attimo, voglio sentirvi tutti, sta arrivando anche Ordine, devo farvi vedere l'immagine più stretta. Andiamo un attimo in pubblicità, ripartiamo da qui, a tra poco, grazie. Rieccoci, è arrivato anche Franco Ordine, ciao Franco. Eccoci, buonasera. Benvenuto. Allora, sai di cosa stiamo parlando? Mi sono documentato durante... Allora, voglio farvi vedere le immagini diciamo così più strette, quelle di Canale 5, quelle della partita, perché abbiamo detto, gli arbitri, Rocchi considera corretta l'ammunizione a Lukaku. Sia la prima, secondo Martinelli invece era l'espulsione, e per Rocchi no, sia quella dopo l'esultanza. E precisano gli arbitri, fanno sapere, che non è il gesto, possiamo rivedere, e che ormai abbiamo imparato, dell'esultanza di Lukaku, del silenzio, ecco, con l'altra mano lì. Ma è quello che è successo dopo. Allora, cosa è successo dopo, tanto da portare all'ammunizione, lo vediamo in queste immagini strette di Mediaset. Prego. No, non c'è l'audio, nel senso che, ecco. Vabbè, più chiaro di così. Muto, muto. Cioè questo... Accidenti. Lapo dice, cioè, possiamo rivederlo un attimo? No, aspetta che queste sono due. Ma è violenza, Lapo, è un giallo. Allora, mentre, aspetta, per la fucilazione, ha tentato, guarda come gli saltano, ha tentato di coprirlo per non farlo vedere questa cosa, perché si sa che ci sono le telecamere da tutte le parti, e lui appena si divincolava ancora, muto, muto, e dai. Ma te cosa, io vorrei sapere, tu che sostieni questa cosa, io mi chiedo, non capisco se parli da tifoso Juventino, perché tu dici, tu sei talmente, questa cosa, a parte che non è vero, perché i giocatori dell'Inter erano lì, lui era fermo, Lukaku non ha fatto un passo né avanti né indietro. Dopodiché, se lui fa questo gesto, che ripeto, siccome ha fatto effettivamente in passato, che possa essere fastidioso, perché a me non piacciono i giocatori che fanno così, non mi è piaciuto, non mi è una cosa che... però regolarmente non vengono a me. Dopodiché, lo ha fatto recentemente per il nome dell'amico morto nel terremoto in Turchia, ed è stato fatto anche in nome di Docu, lui ha fatto pochi gol quest'anno Lukaku, quindi non ha avuto molte occasioni di fare questo tipo di manifestazione. Ciò non toglie che, quello che sto detto prima, io cerco in qualche modo di riassumere dicendo soltanto, non è il tema di Lukaku, io mi rifiuto. Poi, per carità, il dibattito è questo. Quante volte ti dobbiamo scusa? Ho detto prima, il tema d'Italia non dovrebbe essere oggi se Lukaku è stato giustamente ammonito o meno. Io, onestamente, in un paese civile, se vuole dare una risposta al no al razzismo, invece di fare i comunicati della FIGC e di fare i comunicati... Oggi ci sono stati diversi comunicati, però scusi, ma mi hai interrotto tu, stavo parlando io Lapo, scusami, stavo parlando io, sei tu che sei intervenuto, ti ho ripetuto e ti dico una cosa, così, stavo parlando io e poi mi hai interrotto, allora ti dico e ti ribadisco che tu lo vuoi portare sul tema degli ululati, benissimo, ma siamo qui tutti d'accordo, le abbiamo condannati tutti, però alla domanda e adesso magari magari ci risponde Franco, che così è arrivato adesso, era da ammonire sì o no? un giocatore che, malgrado, io avrei fatto, e tu hai detto la stessa cosa, io avrei fatto di peggio, mi hai detto prima, io avrei fatto di peggio, io ti posso dire la stessa cosa, avrei forse fatto di peggio, però io da professionista non devo, non devo andare a rispondere, non devo, e quindi la domanda dei principi del conduttore, andavamo unito, sì o no? Sì, è quella la domanda, poi sul fatto che il razzismo è da condannare, che, e questo è vero, se riguarda Lukaku, magari anche per la sua reazione, e magari questo è anche un bene, ha un eco mediatico di un certo tipo, se riguarda la curva dello Spezia che dicono uno zingaro a costi, c'è lui invece di, non fa niente, secondo me in modo molto intelligente, dice sì, sì, bravi, se ne va, non ne ha parlato nessuno, ne abbiamo parlato poco. Stancovi ci ha detto che si sente uno zingaro, l'ha detto, e quindi non si sente offeso, perché dice io sono uno zingaro, e quindi non mi sembra assolutamente offensivo, e se vogliamo paragonare anche il fatto che si dice, ho visto il titolo oggi, un signore di Cagliari che dice noi ci danno dei pastori, non è esattamente la stessa cosa, cioè non possiamo cambiare il mondo a seconda delle nostre persone, siamo arrivati anche lì. Sì, ma non facciamo i massimalisti. No, però, sei d'accordo che bisogna condannare quando riguarda Lukaku, bisogna condannare quando riguarda Ibra, bisogna condannare quando riguarda Kosti, bisogna condannare quando riguarda Kosti, bisogna condannare a due velocità. Quando Ibra alza le braccia, perché dando lo zingaro alza le braccia e viene ammonito, e questa cosa mi sconcerta, quando Ken ha detto a Cagliari alza le braccia e lo insulta e lo viene ammonito anche lui, ho detto prima molto precisamente, quando un giocatore viene e insulta, voi che diciamo non razzismo, vergogna razzismo, però quando un giocatore è straniero, gli viene dato dello zingaro, gli viene detto del negro, gli fanno gli urlati, viene ammonito e talvolta anche espulso. Però no al razzismo. Allora, se vogliamo fare no al razzismo, invece di parlarsi dietro al regolamento, la squalifica non si toglie, la munizione bisogna darle, sai, il regolamento. Cerchiamo di capire e di avere buon senso, perché il regolamento non è la biglia, non è il Vangelo. Però reagire a un gruppo di bestie ignoranti, provocandole a tua volta, non è il modo migliore. È colpa tua che reagisci perché ti danno della scimmia. Non è colpa, ma non è il modo migliore di risolvere una situazione che è un po'... Mi sembra il discorso di quando si fa, di quando ci sono le rapine in gioielleria, diceva, però il gioielliere non doveva. Siamo lì in quella specie di zona borderline, poi ti ci devi trovare, ti ci devi trovare. E' massimalista. Voi siete mai stati vittime di razzismo? Avete mai subito dei tatti di razzismo? Io sì. Ah sì? Sì. E in che modo, sentiamo? Cosa ti hanno detto? Spurco bianco ti hanno detto? Ecco per la mia provenienza territoriale. Ah vabbè, no io sto parlando di ratti della scimmia, di lanciarti le banane. Ma tu chi sei per fare la graduatoria di come si sente uno? Con quale diritto tu ti puoi arrogare? Ma non è diritto Leonardo, è una cosa di cui si sta parlando in tutto il mondo. Ognuno se la sente personalmente, come tu hai fatto una domanda. E lui ti ha risposto. Basta, finito. Fatevi sentire ordine che non ho ancora sentito. Intanto Franco, partiamo dalla prima domanda, loro mi hanno già un po' risposto. È stato giusto o no ammonire il giocatore? Allora, c'era una vecchia formula del panorama di Lamberto Secchi che diceva separare i fatti dalle opinioni. Io in questo caso separerei i fatti della partita dal razzismo che è una scorciatoia molto comoda per i professionisti. Sciascia gli chiamava i professionisti dell'antimafia. Noi abbiamo ormai i professionisti del politicamente corretto. E quindi, quando c'è una questione che attiene a vicende di natura squisitamente specifica, tecnica, in questo caso calcistica, si tirano fuori vicende di altro genere che naturalmente godono della maggiore sensibilità e della maggiore attenzione di media, opinione pubblica, eccetera. Allora, se Lukaku fosse stato un giocatore dai lineamenti come Darmian, Matteo Darmian, sarebbe stato serenamente ammonito e non ci sarebbe stata, nonostante gli ululati di quella massa di incivili, diciamo anche come chiamarli, bisogna chiamarli, perché sono anche poco dotati di materia grigia, perché non soltanto fanno gli incivili, ma poi si firmano e lo mettono in rete. Secondo me, questo aspetto del razzismo non sarebbe stato tirato in ballo e soprattutto non sarebbe stato cavalcato perché questa è una delle cose incredibili a cui abbiamo assistito oggi. C'è questa marea che sta montando sulla vicenda di razzismo e io devo dire francamente che non mi sembra di vivere in un paese razzista, mi sembra di vivere in un paese nel quale ci sono delle persone, ripeto ancora una volta, a cui andrebbe non soltanto negato l'accesso allo stadio, andrebbe negato tutto, andrebbe negato l'accesso allo stadio, il diritto al voto, la possibilità di frequentare i locali pubblici, tutto, perché è gente che non è degna di stare nella comunità come noi. Questo è l'aspetto, diciamo, da costume. La campagna antirazzista che abbiamo vissuto oggi, che si è scatenata, secondo me può essere anche un bene. Non può essere, è sicuramente no. Quindi io quello lo lascerei. Se è servito per parlarne, per ancora una volta cercare di alzare un po' il livello anche all'interno degli stadi, è servito, è servito, ma ti dirò di più, ti dirò di più, ti dirò di più. Ci sono alcuni esempi che dimostrano come reazioni sbagliate finiscono per moltiplicare la eco degli episodi. Per esempio, tu hai citato l'esempio più recente a Spezia, quello di Kostic. Ce n'è ancora un altro. Lanciano una banana, quello lì la prende, la sbuccia e se la mangia. Bello, bello, bello. Era in Inghilterra, forse. Credo di sì. Credo di sì. E tutto questo mi dà l'idea di come, non dico arrivare alla teoria di capello che dice più ne parliamo e più questi si sentono protagonisti e più si scatena la voglia di emulare. Però, dico questo, il fatto che sia montata fa benissimo, che ci siano stati gli interventi. Infantino, la Lega Calcio, tutte le squadre, Mbappé, tutti i campioni che poi non hanno neanche visto la partita e l'episodio, ma ovviamente sono sensibili all'argomento. Sono sensibili all'argomento. Quindi tu mi hai già risposto che la munizione ci sta. Secondo me, dal punto di vista calcistico, regolamentare, secondo me ci sta. perché è quella che ha subito Ibrahimovic quando gli gridano Zingaro a Roma, lui fa con le orecchie così dopo che fa il gol su punizione e viene ammonito da Maresca, mi pare. Quindi, dal punto di vista, ecco perché Rocchi, secondo me, dice il giusto quando sostiene che l'arbitro Massa... Arbitrato bene. Non è che ha arbitrato bene. Secondo me lì... Ha preso le decisioni giuste. Sì, sì. Io quello che non condivido assolutamente di quello che è successo ieri sera è il comportamento incredibilmente, clamorosamente opposto tra alcuni esponenti delle due squadre e altri che hanno partecipato a quella ignobile rissa. Per esempio, c'è una foto in giro che fa vedere come intorno a quel capannello di 20, 25, 30 persone che chi tentava di dividersi eccetera ci sono due. C'è Chiesa con la mano sulla spalla di Barella che guardano un po' attoniti e probabilmente anche un po' Lì dobbiamo dire e torno da Lapo che probabilmente intanto vi faccio vedere anche quello che è il comunicato dell'Inter compatti al tuo fianco Forza Rom siamo con te e i valori dello Sport non hanno nulla a che fare con quanto visto ieri sera. Un po' debole comunicato debole dell'Inter mi aspettavo molto di più mi aspettavo che la dirigenza parlasse in modo molto più vehemente io non posso cambiare l'opinione di persone che conosco e che rispetto perché tutte le persone che sono qua da Leonardo a Franco a Giordano io chiaramente rispetto il concetto e credo che non posso non potrò mai fargli cambiare idea perché evidentemente è un concetto culturale cioè ritengo che questo invece quando un paese e un'Europa si schiera contro il razzismo non basta dire prendiamo il Daspo i tre o quattro che l'hanno fatto perché se tu dici a un bambino che prende tutti i giorni un sasso e rompe la finestra fa casino urla e gli dici basta non si fa dai che non si fa lo sgridi ma l'Uri lo ripete è evidente che ci vuole un atto di forza molto più ampio se noi abbiamo prima che tu arrivassi Roma e Lazio hanno fatto dalla Lazio sono arrivati Cori ma solo la maglietta del nazista è una curva che spesso ha dato vita a delle vicende abbastanza spiacevoli il massimo è stata una una sospensione della squalifica della curva a Roma ho detto prima il danno dello Zing allo Stankovic e Mourinho fa così e quindi la curva non viene squalificata però arrivo ma lì cosa faresti sto arrivando sto facendo un discorso che appunto è culturale ci vuole un atto di forza che cosa e ci vuole non più i distinguo non ci vogliono più che cosa faresti sto parlando e però arriva un punto ogni tanto arriva un punto cosa faresti sono qui che aspetto la tua 10 minuti che dici ci vuole un atto di forza ci vuole un atto di forza qual è questo atto di forza eh sono curioso fammi sapere no ci dici un fatto culturale io non posso allora te lo dico sincero Leonardo lo dico adesso io non parlo più no dai non fare io non posso intervenire io poco fa ho sentito molto interessato l'argomento di Franco Ordine non mi pare che Leonardo si sia impressato e abbia detto dimmi cosa vuoi dire non mi l'hai detto non mi piace la mancanza di rispetto allora come abbiamo ascoltato attentamente l'opinione di Franco Ordine mi fa il piacere di far finire anche a me facciamolo finire altrimenti diventa spiacevole facciamolo finire dai la seconda cosa che dico è che quando parliamo di atto di forza parliamo di decisioni che sono chiare squalifiche di una curva non vuol dire mezza giornata 80 mila euro di multa alla società non significa dare due o tre d'aspo perché altrimenti ci saranno sempre altri che continuano a ripetere perché tutte le volte che si parla di razzismo o atteggiamenti violenti o comunque sgradevoli da parte dei tifosi regolarmente si passa oltre sì sì vabbè sono cose che succedono ci vuole squalifica della curva ci vuole la squalifica di tutto un settore ci vuole purtroppo un atto di forza molto forte ci vuole come è successo dopo Coulibaly a Milano hanno chiuso lo stadio e tutto lo stadio anche i settori che non erano coinvolti cioè tutti però lì sai che c'è stata la polemica c'è la polemica io ora è chiuso un settore se devi chiudere un settore chiudi un settore se è quello settore non tutta la curva però l'hanno fatto con l'Inter l'hanno fatto allora io dico soltanto se tutte le volte noi facciamo dibattiti lo dico anche ai colleghi giornalisti che fanno questo libro di mestiere se continuiamo con i però tuttavia è però Lukaku e non doveva cioè io sono anni che sento parlare di questa storia e anche quando Boateng uscì non parlammo del fatto che i tifosi la gente il paese no beh però Boateng non doveva beh però Zorò non doveva cioè la colpa è del calciatore ci si concentra l'opinione il dibattito è 10 secondi 5 secondi ecco perché me la prendevo con te Giordano su sì va bene di razzismo va bene e poi ore su però il giocatore non doveva fare quella roba là il giocatore che subisce l'atto di razzismo quindi ho detto visto che tu volevi sentire la chiusura la mia chiusura caro Leonardo è un atto di forza vuol dire che si va realmente convintamente a favore del giocatore si toglie la squalifica lo si ammonisce perché sai il regolamento perché il regolamento fondamentalmente c'è sempre quindi guai ha il vangelo del regolamento quindi secondo te si toglie la squalifica ma siccome non si può fare perché mi hanno spiegato subito che l'ammunizione non si può togliere perché il regolamento è più di dire è come Dio il regolamento secondo te sarebbe giusto anche come segnale togliere l'ammunizione vuoi dare un atto di forza vuoi fare il regolamento non è una roba insormontabile si fa un atto politico e si toglie la squalifica si squalifica una curva ma non della Juventus punto di tutte le curve che cominciano a fare così invece di dire questo sì obiezione l'apo che è questa se un giocatore se tu togli la squalifica a Lukaku quindi sdogani il fatto che comunque se ti metti a litigare con il pubblico non vieni ammonito la prossima volta se non è per razzismo ma è perché dicono a un giocatore se hai un figlio di e questo si gira e si mette a litigare con tutta la curva non fai niente non lo ammonisci si stabilisce un criterio e si fa un dibattito serio invece di far fare tutto il regolamento e si dice da quest'anno tutte le volte che due punte per tre virgolette noi non siamo capaci di fare questo perché questo tipo di gesti di episodi altrove non accadono accadono in alcuni paesi ma nel nostro paese in modo particolare accadono più di altri accadono sporadicamente a macchie non è che tutto un pubblico però in Inghilterra tutto questo è stato abolito in Germania sono riusciti a debellarlo ed avevano avuto un problema serio anche loro avevano lasciato anche delle banane mi ricordo le Borussia Mönchengladbach che è un'altra partita dopodiché sono riusciti come? squalificando la curva facendo un atto di forza non è però il giocatore ma che atto di giocatore? a parte che ripeto stiamo parlando di una situazione culturale non del regolamento questo è il discorso per cui io dico che Rotti sbaglia e voglio Martinelli Mischi visto che ma io sinceramente tu resti della tua opinione parla di cultura io non mi cito evidentemente non sono acculturato secondo me la proposta sua è un atto di debolezza non è un atto di forza perché sono capaci tutti come a scuola quando non individui colpevole tutti sospesi e che atto di forza è? è un atto di debolezza perché non sei capace di intervenire meglio andargli a prendere invece devi intervenire farà la Juventus è doppia debolezza la proposta è totalmente inefficace spiego perché dico perché vai a colpire tutti ingiustamente quando invece devi andare a colpire qualcuno non ne punisco la sua teoria è un po' di chi era Mao Zedong ne punisco uno per educarmi non è così non è così tu invece devi andare prendere quelli non metteranno questa è la forza non metteranno mai più piede nello stadio ma non gli levi l'ammunizione perché se no crei la deregulation e autorizzi chiunque si senta si senta perché abbiamo visto che c'è una percezione diversa dell'offesa delle cose Lukaku qui a suo pieno diritto ovviamente si sente molto coinvolto chissà cosa è successo nella sua vita però ha fatto quella reazione lì invece lui è vittima e su questo non c'è dubbio e non però e si è comportato non da professionista quindi giallo punto basta per me è finito lì il discorso ma non uniamo tutti tanto cosa sai perché poi secondo te risolviamo il problema perché a Milano si è fatto una cosa simile adesso non mi ricordo il caso sì forse con con il cuoco del Napoli forse ma con Coulibaly con Coulibaly ma unico caso perché a Milano perché a Milano non sentiamo quando andiamo invece delle situazioni analoghe no Milano da quella volta lì pum un oasi di paradiso non mi sembra se lo fai tutte le volte sì se lo fai una volta praticamente ma devi essere forte sul serio non generalista Napo Mischi poi torno da ordine tanto qualsiasi decisione che tu puoi prendere ad esempio se potessi cambiare una cosa togliere una munizione andresti a cambiare un qualcosa che invece adesso in corsa non puoi cambiare quindi però con Rocchi che dice è stato giusto a munire la munizione non la togli ma non la togli ma anche la munizione anche se non fosse intervenuto Rocchi è tecnicamente impossibile da togliere tecnicamente impossibile da togliere solo e soltanto se l'arbitro a fine partita avesse iscritto nel suo referto per errore o ammonito Giovanni anziché Luigi solo per in quel caso e comunque un cambio di questo tipo lo fai per dire con un campionato nuovo fai una regola nuova altrimenti vai a falsare magari i precedenti fatti che sono successi prima ma detto questo ma detto questo io non capisco che colpa ne abbia il papà col figlio che viene dalla Sicilia che paga l'abbonamento per quattro stupidi che fanno queste cose qua allora colpisci ad persona Scusa Giordano il ragionamento di Lapo secondo me è un po' più alto ed è un po' più complesso e che attiene diciamo tra virgolette alla cultura però deve chiamare in causa noi tutti perché secondo me di questo clima di questa cultura di questa deriva in parte resa ancora più acida dalle abitudini dei social siamo tutti mi ci metto dentro anch'io in qualche modo responsabili perché a cominciare dai genitori che accompagnano i figli piccoli alle prime partite di calcio e insultano l'arbitro piuttosto che il compagnuccio del loro figlio che gioca nella squadra opposta a cominciare dai genitori che tra il figlio studente e il professore sono sempre dalla parte del figlio studente e mai e mai da quella del docente a cominciare dal clima che si respira in alcuni ambienti della nostra società quindi in sostanza è lì cioè se noi facessimo applicassimo il metro di cui parla giustamente dal suo punto di vista l'Apo e cioè allora siccome non basta punirne 2, 3, 5, 10, 15 puniamo tutta la Juventus che cosa vogliamo fare della Juventus dobbiamo non so chiudiamo lo stadio chiudiamo aboliamo la Juventus che vogliamo fare secondo me quel provvedimento così e in effetti non è efficace ma non possiamo nemmeno per cioè secondo me non per fare del benaltrismo ma secondo me il ragionamento molto alto e molto giusto che fai sulla cultura secondo me deve passare attraverso altri step della società attuale e ci faccio rispondere però devo andare un attimo in pubblicità voglio farvi vedere e leggervi nel dettaglio anche la motivazione di Rocchi a proposito di quello che è successo andiamo un attimo in pubblicità e torniamo rieccoci ecco nel dettaglio possiamo anche non inquadrare il computer leggo solo quello che la versione diciamo così di Rocchi che dice se Massa sul campo avesse avvertito Cori a sfondo razzista da parte del pubblico o se Lukaku li avesse denunciati avrebbe dovuto sospendere momentaneamente la gara e dice Rocchi il tutto in quegli istanti o prima non sarebbe stato avvertito cioè quello che dicevo io prima la percezione del razzismo l'arbitro non l'ha avuta per questo motivo secondo me poi ha anche applicato alla lettera il regolamento posso avere un dubbio su questa ricostruzione questo è quello che dicono gli altri se l'ho io dalla televisione ho percepito prima del rigore questi bu continui nei confronti di e abbiamo detto che i bu è un sintomo di razzismo abbiamo detto qua come ha fatto lui a non sentirmi perché signori perché voi non vi rendete conto campo diverso che quando sei in mezzo al campo e sei concentrato sulla partita non è io ricordo che l'episodio di Milan Roma in cui viene sospesa la partita l'arbitro non mi pare che fosse proprio Rizzoli o addirittura Rocchi viene tra virgolette avvertito di quello che sta succedendo nel terzo anello dai tifosi romanisti viene avvertito dai giocatori in campo ma lui non se n'era accorto quindi per dire io non lo considero diciamo tra virgolette strano e curioso che l'arbitro non se ne sia accorto così come secondo me Lukaku non mi ha dato segnali fino al gol su rigore di no di perché ci sono alcuni giocatori che a un certo punto masticano amaro tipo per esempio l'esempio più clamoroso in questo senso è Zoró in Messina Inter allora io dico da questo punto di vista non mi sembra che ci sia stato da parte di Lukaku secondo me il tutto è scatenato cioè l'accentuazione di quel clima viscido e acido è accentuata dal rigore segnato cioè anche può essere anche i giocatori della Juve ecco io una cosa che non ho capito è che secondo me forse ha ingannato l'arbitro nella percezione della provocazione di Lukaku i giocatori della Juventus che sono partiti e sono andati contro Lukaku sono partiti perché ha cominciato Perin ha cominciato Perin questo non è normale no ho capito cioè lui sta risultando tu fatti gli affari tuoi Stefano aspetta Perin ce l'aveva davanti Perin fino a che ha preso il gol si è alzato ha preso il pallone con tranquillità quando ha visto questa cosa che si avvicinava verso la curva muto 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 non si è avvicinato no no scusa Corrego non si è avvicinato Giordano però dobbiamo dobbiamo ammettere nella ricostruzione dobbiamo ammettere una cosa fondamentale e cioè la sensibilità e il comportamento dei giocatori è stato deplorevole sì sì sono d'accordo sono d'accordo perché se noi non non mettiamo i puntini su questo argomento perché scusatemi io vi dico se quelli della Juve prendono la palla e vanno al centro per riprendere non succede assolutamente nulla secondo me ti dirò di più secondo me in quel caso non succede neanche l'ammunizione no non ammonisce neanche sicuro perché lui sicuro no no mentre mi state parlando mi veniva da sorridere perché tutti state parlando stavo vedendo le immagini in uno dei monitor del Brighton che ha fatto il gol ieri contro il Bournemouth e il giocatore che ha segnato il gol sotto la curva fa ovviamente non è successo nulla però viene da ridere lo fanno tutti lo fanno tutti però in Italia si è spesso no ma perché secondo te i giocatori della Juve sono partiti verso Lukaku evidente allora hai appena subito il gol del 1-1 sei a nervosissimo per la cosa vedi tutto il corchio di giocatori dell'Inter è un giocatore che fa così quadrato più che il primo quadrato è lui il provocatore perché è lui che va a cercare addirittura sale sopra per cercare di trovare il modo di arrivare a Lukaku non viene ammonito quello che mi ha dato più fastidio è vedere che l'arbitro è stato sollecitato dai giocatori della Juventus a intervenire faccio presente che quando poi l'arbitro interviene si vede Lukaku sta andando via e lì lo espelle cioè la seconda munizione quadrato niente viene ammonito anche lui in quella circostanza perché di fatto era particolarmente esagitato e perché a quel punto Lukaku già espulso dà una manata a quadrato ma il giocatore già espulso sta uscendo quadrato non contento poi va a parlare con Andanovic succede quello che è successo contemporaneamente ma si è capito poi scusate non è la distinta scusate entra in campo scusate se vi chiedo questa cosa quadrato Andanovic allora siccome la televisione inquadra quadrato e Andanovic che stanno si stanno reciprocamente dando delle spiegazioni sembravano due tranquilli poi è esploso in qualcosa poi deve no poi gli ha dato una manata a un certo punto c'è proprio l'immagine che è una manata lo trattiene Andanovic a un certo punto se ne sta andando lo riprende quadrato riprende Andanovic sì ma il momento in cui scatta tutto siccome ho visto quattro immagini diverse la prima volta la prima volta in cui due parlano la seconda volta i due continuano a parlare poi c'è l'inquadratura da lontano e si vede Andanovic che dice no è così e basta perché quadrato cerca di convincerlo di qualcosa non so cosa evidentemente riferito a Lukaku e a un certo punto quadrato gli dà una manata e lì Andanovic esplode ovviamente i due arrivano alle mani c'è l'algazzarra tutti sopra uno sull'altro quadrato sferra un pugno a Lukaku lo colpisce a Lukaku a Andanovic no sì a quadrato Lukaku figo non stava qui però ad Andanovic e evidentemente da lì i due sono stati espulsi questa è stata la vicenda naturalmente l'abbiamo ricostruita non ho bisogno neanche di fare la mia ricostruzione io pochi istanti fa stavo dando un'occhiata anche all'occasione in cui Lukaku esulta dopo il gol del rigore basterebbe vedere quello so che per motivi di diritti televisivi non si può vedere ma l'immagine dove si vede Lukaku che segna esulta fa così e fa così ora io francamente credo che non sia diverso da centinaia di migliaia di altri giocatori che fanno così in tutti e giunta con gli occhi chiusi cioè neanche con l'aria di sfida la fase successiva di cui ci parliamo di cui possiamo concentrarci ripeto nasce dalla prerogativa di un pubblico che lo fischia gli urla e gli diceva qualunque e lui ha una reazione secondo me umana che poteva essere giudicata come volete secondo me un arbitro non deve essere soltanto un vigile non è un poliziotto un arbitro dovrebbe essere empatico e capire quello che succede la giustificazione che è stata data dagli arbitri è che non ha avvertito quello che dici tu cioè se non avverti che quello che si è un limite dell'arbitro l'arbitro quello che vorrei fatte capire è che l'arbitro non vede Lukaku che fa quello l'arbitro non è lì viene sollecitato dai giocatori della Juventus ma non è lì quando vede Lukaku c'è l'assistente che entra sì ma lui lo espelle immediatamente dopo cioè i giocatori si vedono i giocatori della Juventus che vanno da lui due e lui tira fuori cartellino e io sono restato scoccato perché dice ma come in più non era neanche lì non ha neanche potuto giudicare ma se anche fosse accaduto con tutto quello che succede santo cielo aspetta oppure ferma piuttosto ferma tutto ferma prenditi il tempo parla con il VAR lui ha fatto tutto in 12 settimane ma Lapo è stato sollecitato ma io chiedo scusami Lapo secondo te secondo te l'arbitro rispetto al comportamento di tutti i giocatori è il colpevole o la vittima? no no capisco cosa vuol dire per me è banalmente un atteggiamento ottuso si tratta di un atteggiamento io devo dire adesso non vorrei citare Garimberti quando parla dell'età della tecnica ma veramente come quando la gente dice scusi ma questa cosa quando vai a un ministero dico ma dov'è che devo andare ah non lo so io penso soltanto a fare da qui a qui lui è una specie lui non è un essere umano è un segmento e quindi lui si comporta quando Rocchi fa le dichiarazioni che ha fatto è un segmento anche lui sono tutti segmenti ognuno pensa al proprio orticello al proprio lavoro quello ho fatto bene io ho fatto bene tutti ho fatto bene da noi in Italia aboliamo il razzismo perché noi siamo contro il razzismo l'arbitro ha fatto bene perché il regolamento dice che bisogna ammonire in questi casi ma è da altre parti ma noi bisogna fare così avremmo visto e quindi così Rocchi che è il capo degli arbitri ci abbiamo fatto bene quindi nessuno ha sbagliato il razzismo non esiste perché il nostro paese è un paese razzista come nessuno ha sbagliato ma qui stiamo dicendo che tutti hanno sbagliato hanno sbagliato i giocatori perché l'arbitro non ha sbagliato Rocchi dice che l'arbitro non ha sbagliato hanno sbagliato i giocatori in generale il razzismo non esiste comunque il razzismo c'è soltanto i 5 o 6 di Juventini i giocatori a parte quelli quelli non è che hanno sbagliato quelli sono da bandire quelli sono da bandire però che abbiano sbagliato i giocatori mi sembra è che abbiano sbagliato i giocatori non c'è dubbio non c'è dubbio questo è chiaro lo diciamo vorrei soltanto dire che se anche io posso avere per me è corretto ma io voglio prima provarci cioè siccome Leonardo prima si è accalorato quando diceva che la mia soluzione è una soluzione paradossalmente debole non forte quando dico di chiudere tutto di chiudere magari la curva per un tot di volte io mi limito a dire che se tu chiudi la curva una volta o tutto uno stadio una volta sola e poi non lo fai più quella è debolezza se tu non pratichi è come quando abbiamo fatto il terzo tempo da noi che è durato neanche un anno e per giunta abbiamo fatto un po' così alla Carlona all'italiana io dico facciamo le cose seriamente facciamo una cosa ma facciamole fino in fondo e invece noi ogni tanto chiudiamo gli stadi poi la maggior parte dei casi diciamo razzismo si vabbè si sa però scusa io che contesto l'apo è si vabbè nessuno ha detto si vabbè scusami non si parla mai se ne parla più oggi veramente e dico meno male ma oggi perché è Juventus Inter oggi è Juventus Inter è successo oggi tu scommetti che dopo domani non se ne parla più scusami ma ragazzi se fosse caduto guarda finisco solo una cosa c'è un giocatore una vicenda di quella signora che è stato aggredito con la SLA menato un signore l'allenatore con la SLA picchiato da un tizio nel bergamasco se fosse caduto una vicenda del genere di Juventus Inter chiaramente ne parliamo due o tre giorni perché è un caso talmente gravoroso noi parliamo di queste cose perché riempiono chiaramente spazi, giornali televisioni, radio ma sappiamo tutti che il discorso non è parlarne il giorno dopo noi siamo tutti bravi nell'aspetto emergenziale è come quando c'è il terremoto tutti ne parliamo il giorno stesso due giorni dopo siamo tutti bravi nei primi soccorsi ma non siamo bravi a organizzarci per fare in modo che non accada di nuovo io non voglio l'argomento emergenziale non voglio è abbastanza simile perché il terremoto non lo evi hai capito il concetto il concetto è che se io dal punto di vista del nostro atteggiamento una modalità dalle per cui parliamone perché è appena successo siamo tutti bravi in Italia puniamo i colpevoli questo stiamo dicendo non è questione di colpevoli perché non si sa chi siano ma come non si sa non si sa non li sai mai chi non li vedi mai a risolvere quelli che sai cominci a prendere ma non li prendi perché si continuano a ripetere quelli che si sa cominci a prendere ma continuano a fare forse non mi sono spiegato bene quelli che hanno fatto questo tipo di ululato e come lei io posso fare un esempio in casa nostra lo fate tutti ad esempio fai così fammi andare un attimo in pubblicità poi ripartiamo dal tuo esempio aggiungiamo anche poi il campo direi che qualcosa ci ha detto in questa partita ci sono le parole di Marotta hai stato giocato anche una partita? sì a tra poco grazie rieccoci io dovevo andare da ordine da mischi poi voglio introdurre anche il tema di quello che hanno dichiarato i giocatori anche nella giornata di oggi Franco no dicevo a proposito degli esempi diciamo del ragionamento della cultura nei giorni scorsi si è verificato questo episodio in una partita di settore giovanile il Monza ha fatto un gol con il portiere del Milan caduto per terra 17 è andato in vantaggio l'allenatore della squadra ha chiesto ai suoi giocatori di far pareggiare il Milan oggi Gagliani ha premiato quella squadra quell'allenatore ora quei ragazzi che hanno non so se 13 14 15 16 17 17 17 anni secondo me rimarrà impresso nella memoria questo episodio e probabilmente avremo una fetta di quella generazione che si porterà dietro si porterà dietro quell'insegnamento allora mi chiedo se diciamo questo ragionamento che riguarda gli allenatori quindi diciamo gli insegnanti diventasse come dire un comune denominatore di tutte le attività sportive non e probabilmente allora lì avremo centrato il nostro obiettivo perché questo secondo me è il ragionamento a proposito della della cultura da cambiare da modificare non soltanto del nostro calcio ma diciamo anche proprio della nostra società della nostra comunità ho affermato anche Mischi poi vi leggo quello che ha detto Danilo giustamente dice Franco di cultura che si deve avere a partire dalle giovanili a partire dai campi di calcio a partire dalla società stessa nei vari aspetti c'è un esempio che è un esempio di un problema gravissimo e grosso che c'era vent'anni fa in Inghilterra è il problema degli hooligans però non l'ha estirpato chiudendo uno stadio chiudendo una parte mettendoli in galera li ha messi in galera e cazzo sì ma però è andato ha trovato delle strutture a colpire i colpevoli a colpire i colpevoli a colpire i colpevoli la polizia a cavallo li menavano e poi andavano in galera guardate cosa ha detto Danilo ieri nel post partita Lukaku ha segnato ha fatto un gesto di stare zitti alla nostra curva e lì è stato facile il lavoro dell'arbitro che è normale lo ammonisca è stato espulso correttamente secondo me poi Danilo stesso è stato attaccato dai tifosi dell'Inter perché dopo che si sono visti quei video che abbiamo visto prima anche noi dove si sentono gli ululati e hanno chiesto a Danilo di chiedere scusa per quello che ha detto ieri e Danilo invece ha fatto un post dove dice il razzismo è un argomento troppo serio per essere trattato in maniera superficiale io sono antirazzista e qualsiasi atto di questo genere deve essere duramente condannato non piace a Lapo no è che bisogna condannare sono contro è come quelli che dicono che fanno le battute ma forse è la fucilazione non lo so non c'è di più di quello che ha detto Danilo scusa di più di quello che ha detto Danilo che deve fare cosa avrebbe dovuto dire Danilo te lo dico subito la cultura si diffonde con l'esempio per cui dire in generale sono contro il razzismo ma non fare niente perché questo perché poi però spellere un suo collega per motivazioni che sono evidentemente direttamente collegate allo stesso argomento implica che dire no al razzismo è ancora una questione parrocchiale cioè noi viviamo prima di tutto il razzismo è una cosa che sono contro però se riguarda la mia famiglia e quindi la mia squadra non mi riguarda noi a prima l'unico momento in cui volevo dire che non è che io volevo chiudere tutto la squadra della Juventus io il giornalamento che faccio spero che si capisca da casa che non sto parlando della Juventus ma che il problema è italiano e che non riguarda la Juventus riguarda tutte le squadre italiane e ho detto anche che probabilmente se tu fai qualcosa che si diffonde e quindi sai che punisci e tutti sanno che punisci severamente a costo di punire anche chi non è colpevole vedrai che probabilmente questo genere di situazioni molto più difficilmente si ripeterà tanto più che quando io cito spesso il caso dell'Inghilterra perché il paese che conosco meglio è la Germania e perché seguo molto la Premier League e la Bundesliga certe manifestazioni non si sono ripetute perché sono state punite anche le tifoserie le parti della tifoseria cosiddette normali che non vanno in curva a costo anche di essere impopolari come lo è stata anche a Margaret Thatcher hanno paura che finisca la loro vita se delinquono quello hanno paura hanno paura perché il governo inglese cambia da così a così se vengono presi dalla polizia inglese il governo inglese entra molto duramente su questo genere di vicenda da noi no da noi è un chiacchiericcio che dura 36 ore da noi in Italia se c'è di intervenire un attimino più duramente su qualche cosa a proposito di razzismo a proposito di razzismo dovreste anche segnalare quello che dice Nainggolan Nainggolan che dice cosa vi aspettate da quelli là anche quello è obiettivamente come dire è un razzismo nei confronti è certo quindi il problema di fonda ragazzi è questo non è una frase molto intelligente è bello Nainggolan da giocatore poco intelligente ho capito però ha vaturato una certa esperienza uno si augura che possa essere anche un uomo diverso cosa ti aspettavi là eccolo qua io però io posso dire cosa ti aspettavi dicesse Nainggolan no ma io però su questo punto vorrei fare un'altra domanda che secondo me è una delle domande che può essere anche considerata molto interessante ed è questa qual è secondo voi il motivo dietro il quale fin dalla fine della partita Simone Inzaghi ha ha cavalcato l'argomento togliete la squalifica a Lukaku per quale motivo beh perché ha detto tutti abbiamo sentito chiaramente dirullati i razziti questa è la motivazione no ma dico qual è diciamo la 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 cosa c'è dietro questa il retropensiero no il retropensiero quale sarebbe poi il risultato il risultato di poter avere Lukaku contro Juve perché arriviamo a questo perché la vede dura perché perché quello che interessa non è il razzismo quello che interessa è il risultato quindi anche Inzaghi invece di cercare di avere Lukaku per il ritorno capito dovrebbe fare la sua battaglia solo contro il razzismo però non è un secondo fine quindi cosa credo di fare da Franco dice che alla fine è mascherato per dire anche agli addetti ai lavori interessa come una chiave di volta per altre cose non per parlare di Lukaku per il ritorno e quindi cosa dovrebbe fare non ho capito mi sfugge perché quello che ha detto Inzaghi ha detto semplicemente quello che ha visto lui ma come fanno tutti gli anni no no sto dicendo Inzaghi oltre ad aver visto quello che hanno visto tutti dice mi auguro che come è stato fatto per l'Atalantino che poi non è stato fatto quindi non so chi gli avrà passato questa informazione sballata venga tolta la munizione a Lukaku qual è diciamo la conseguenza di questa richiesta senza la munizione la prima munizione non sarebbe scattata la seconda il rosso e quindi non sarebbe scattata la squalifica sì ma sì io ovviamente no voglio dire no perché voglio dire anziché fare dell'argomento razzismo l'unico argomento della discussione così come ha fatto è quello che diceva Lapo cioè invece di dire che Lukaku ha sbagliato a rispondere parliamo solo del razzismo giusto? sì sì esatto allora così come fa lui in Inter-Juventus ve lo ricordate che dice io dalla partita non parlo perché è avvenuto un episodio inaccettabile c'era un fallo di mano sposta l'argomento e quindi ora in questo caso qui secondo me lui avrebbe dovuto fare così se voleva far diventare il razzismo l'argomento del giorno e delle prossime giornate invece secondo me dietro la richiesta toglietegli la squalifica c'è il pensiero legittimo per carità però diciamo che che guarda su interesse lui parla su interesse non cita Svezia-Belgio lui cita Svezia-Belgio perché dire guardate che lui esulta sempre così e quindi è ovvio che dire non è soltanto una questione di razzismo ma Mischi ti ha detto che non è la stessa cosa non è la stessa cosa ho detto anche Franco non è la stessa cosa che poi un allenatore dica esattamente le cose io ho fatto notare prima Franco che oggi tutti i principali quotidiani è un mistero i principali quotidiani tutti e tre non parlano di razzismo ce ne parlano ma prima di tutto è gazzarra però io non è per fare una difesa però sai meglio di me che sono le undici e mezza su questo io do una mano do una mano molto volentieri i colleghi perché mi sono trovato nelle stesse identiche condizioni lì c'è il problema degli orari ci sono giornali per esempio il mio che quando l'arbitro fischia tu devi avere il ditino sul pulsante e fare i click per mandare il pezzo quindi quello che succede dopo obiettivamente o lo fai in una successiva ribattuta e diventa complicato ti faccio l'esempio di Napoli-Milan aspetta che ve li faccio vedere allora così capiamo a cui si riferisce l'Apo questa ragazzetta dello sport Coppa-Ring e quindi Bianconeri in vantaggio l'esultanza scatena il caos e viene espulso con Quadrado e Andanovic io vi ero rappresentato perché qui i giornali di oggi puntano su Lukaku cioè oggi i giornali di oggi sembrava che fosse Lukaku il colpevole quindi Lukaku provoca i tifosi e quindi il denominatore comune che oggi la rissa d'Italia questo è il corriere dello sport Juve 1-1 pari spinti e scene da far west con tre spursi questo secondo me è il più efficace di tutti no è il più efficace di tutti e poi attenzione e poi vi faccio vedere tutto sport e vabbè cosa c'è tutto sport che brutta fine beh ci sta che brutta fine perché sì perché purtroppo non è un giornale che racconta tutte le vite di tutte le squadre ma cosa ha scritto adesso scusate perché è stata una bella fine il regalo di Bremen magnifica il vantaggio l'esultanza del belga poi tra parentesi da cacciare per un fallaccio su gatti scatena il film mondo rosso a Big Rom al colombiano è andato cioè un giornale di Torino dice che il giocatore da cacciare era il Lukaku perché ha fatto il fallaccio su gatti e oggi a proposito di cultura a proposito di cultura vado a vedere i forum giuventini bianconeri la docetà oggi è una serie di invettive su Lukaku cioè non è quando parlo del fatto che è razzista ma questa è la conseguenza però sapete chi si è messo a dialogare sui social con i tifosi i fagioli vi faccio vedere cosa ha detto andiamo un attimo in pubblicità ripartiamo da qui rieccoci allora vi dicevo oggi i fagioli si è messo perché tu hai citato i social il blog non so che inveivano contro Lukaku oggi i fagioli litigando un po' su Instagram con qualche tifoso credo dell'Inter dice invece quando a San Siro urlavano Zingaro a Kosti Cevlaovic andava bene vero? ecco appunto che è una risposta non così intelligente credo perché dire non mi sembra la risposta brillante dire che anche gli altri sono colpevoli significa in qualche modo dire sono tutti colpevoli è tutto uguale cioè è la prima risposta infantile perché quando la gente non sa più chiedere scusa cosa fa? noi non sappiamo più dire scusa diciamo guarda ho sbagliato io non sento più gente che dice scusa ho sbagliato dice scusa se ti sei sentito offeso quindi vuol dire che ti dà del permaloso e in chi più non ha detto niente di male è così è così è vero Martinelli è uno di questi Martinelli è uno di questi no Martinelli è uno di questi ti dice io non mi sento offeso proprio uno così 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 scusa stai bello sicuramente non mi sento offeso perché stento a capire ma lo so perché tu sei uno che va con l'accetta lo so perché lo so che stenti a capire purtroppo lo so l'altro aspetto è che meno male sei tu che cerchi di spiegare meno male Leonardo non è che se tu lo capisci non vado avanti però sarà anche colpa di chi spiega qualche volta qualche volta è anche così ogni tanto pensa ogni tanto soffermati anche che forse è l'incapacità di esprimersi che le persone hanno fatto di colpa capire come tu ben sai qualche volta come tu ben sai ho una grossa capacità incapacità di esprimersi io ho un problema con l'italiano tutti lo sanno lo vedi anche tu che non riesco a esprimermi l'italiano nessuno di noi qui ha problemi invece al contrario io ho un'argomentazione e tu faresti bene invece che rispondere che non capisci così però rispondere con una contro-argomentazione invece di dire che io l'ho detto prima delle cavolate scusami l'ho detto prima hai sentito capace di dire che qui manca la cultura hai detto fai stringi hai detto delle cose del genere manca la cultura allora io ho detto che probabilmente qui è un concetto di de-responsabilizzazione cioè nessuno si sente mai colpevole se becchi later che ti dice che tua madre è quell'altro lì sei un cretino dice oh ma cosa stai dicendo cosa è che ti ho detto di male cioè fagioli poteva evitare ecco di dire fagioli dice questa cosa qua fagioli dice vabbè ma sarà mica stati soltanto quelli della juventus sono anche gli altri perché il problema è sempre quello di difendere la juventus l'inter il milan ma certo che il problema è legato a tutte le energete cosa ha appena fatto cosa ha appena scritto non parla di fagioli fagioli stavamo parlando di fagioli no ve l'ho fatto vedere io però fagioli o di quello che vuoi ma se tu parli di un calciatore che non mi sembra che il calciatore noi ci possiamo abbeverare alla fonte alla fonte della saggezza di un petatore che mette uno scarpino e un paio di mutande e più a due milioni di euro per giocare a fagioli non deve essere quello il nostro riferimento ma dimmi allora no perché adesso sei tu che stai scendendo se in angolanna dai in angolanna se fagioli e perché fagioli insomma se sono i tifosi ma da tanto lo sai se sono i giochi dimmi tu dimmi tu se vuoi trova amico chi vuoi parlare anzi me la devo segnare me la devo segnare no io devo rispondi a questo me la devo segnare perché magari c'è sotto tanta profondità che non capisci se tu dici a uno perché ti senti offeso no non prendere sia lo stai offendendo no no non riesco a capire ti ho detto rispondi a me se non capisce il tuo problema ho sbagliato ma al massimo ti dicono scusa se ti senti offeso e lui ha detto questo vuol dire doppia offesa doppio attacco doppio attacco sì esatto sì ma non è che era difficile non è che ho fatto un concetto non è che ci sono non è sbagliato non è sbagliato ho fatto una commentazione talmente banale che dovresti capire ma beh comunque è un concetto è quello quindi ho detto soltanto che se nessuno si prende mai la responsabilità e io non sono mai razzista e io non sono omofobo e io non ti ho insultato e io non ti ho detto niente e io non ho fatto nulla è chiaro e tu dimostri anche che dici vabbè ma tanto se tu mi dici che non capisci tanto cosa tanto cosa che stai dicendo tanto cosa tu mi stai dicendo che questo concetto non lo capisci io dico prima di tutto allora se io dico una cosa talmente chiara sei un fiume in ghena e ti fai difficoltà a seguire no non credo che sia secondo te uno dovrebbe dire se tu ti aspetti veramente tu che sei una persona hai la tua cultura la tua esperienza la tua vita quotidiana tu ti aspetti veramente ti aspetti non solo nell'ambito di quale tua personale esperienza che uno dica no io sono un omofobo no io ho sbagliato basta che dici sono sbagliato pensa mi aspetto che uno dice ho fatto una sciocchezza ho sbagliato ma questo non fa parte della natura umana serve invece nessuno chiede mai scusa qualcuno lo chiederà anche qualcuno c'è ma sta all'intelligenza personale ma non può essere un fatto di costura allora sappi che la vera debolezza visto che tu parlavi di debolezza prima la vera debolezza è non saper chiedere scusa ma va bene ma ci ho detto tu questo attiene al singolo stiamo cercando di fare un discorso un po' più ampio del singolo stiamo cercando o no io ho fatto riferimento a Fagioli perché Fagioli rispondendo ai tifosi dice sì però anche a San Siro avete dato degli zingari a Costa e doveva starsi zitto perché non vuole dire niente quella frase lì non vuole dire niente quella frase lì è chiaro ma c'è bisogno di fare un'indagine sociologica per dire che non voleva dire niente quella frase lì il benaltrismo che cosa ti porta il benaltrismo non ti porta da nessuna parte ma in tutto però non solo in questo campo qua io noto ordine io noto ripeto ancora una volta la mia posizione quella che mi ha particolarmente colpito ieri sera il comportamento di giocatori e ti dirò di più l'intervento per niente efficace di quei dirigenti delle rispettive panchine che avrebbero dovuto e potuto spegnere l'incendio e invece insomma diciamo che anche le panchine si sono lasciate trascinare nella rissa finale di rissa si parla qualcuno per fortuna la Chiesa e Marella hai fatto bene a citarlo non l'hanno fatto qualcuno no che si può anche stare lì a vedere ho detto prima Bonucci è entrato senza distinta in Borghese in campo non si capisce perché lui non venga punito o altro però sono quelle cose che succedono ma come fai a sapere che non viene punito se non sappiamo non sappiamo cosa ci sarà scritto nella relazione comunque sei meravigliato che Bonucci faccia un atto del genere sinceramente sei meravigliato io non sono meravigliato infatti non sono meravigliato che Bonucci faccia una cosa del genere io no io da Bonucci non mi meraviglio mi meraviglio che si possa entrare in campo dallo stadio io non mi meraviglio invece guarda a fine partita Bonucci a un certo punto viene inquadrato mentre si avvicina a quadrado per farsi raccontare perché ci sono state quelle scintille con Andanovi poi non ha messo acqua sul fuoco è entrato in campo cosa che non poteva fare allora però però vedi giustamente lui dice è entrato in campo e non poteva farlo però ti ricordi cosa dicevano loro quando il famoso segretario dell'Inter che era in campo e non poteva stare non poteva starci e non poteva stare no la colpa era di Bonucci in quella circostanza ma in quel caso perdonami Franco qui siamo in una terra di mezzo perché è colpevolissimo uno che non doveva stare lì non è che se però c'è uno che in campo non deve starci lo lo prendi cioè nel senso se io trovo uno che in campo non ci deve stare prima cosa che faccio è che dire siccome ne approfitto visto che tu non puoi stare ti prendo già schiaffi è ovvio che la colpa è di entrambi perché voglio anche chiudere il discorso e passare anche alla partita a vedere se per Inzaghi questo pareggio è un brodino di un allenatore che può continuare c'è stata anche la partita però volevo chiudere perché abbiamo ricostruito quello che ci ha detto Rocchi cioè non abbiamo avvertito un sentimento razzista da parte della curva per questo l'arbitro non ha intervenuto né dice Rocchi né i giocatori hanno denunciato questo mandiamo degli auricolari a Laia vi faccio sentire ancora dalla curva quello che è successo a livello di audio prima e dopo il rigore di Lukaku prego dalla regia grazie a tutti allora ecco io da questo sinceramente la percezione non l'ho avuta nel senso a un certo punto al secondo 52 di quello che abbiamo visto quando era già stato segnato il gol quando c'è stato il cartellino rosso ho sentito prima da questa parte ecco perché secondo me la sensazione può averla avuta Lukaku può averla avuta a qualche giocatore ma ci sta che l'arbitro non l'abbia avuta ecco questa è la mia se ti faccio sentire non possiamo adesso te lo faccio ascoltare quello che si sente dalle prime file te lo faccio ascoltare te lo faccio ascoltare quello che si sente dalle prime file però questo dà validea posto che ci dovrebbero essere dei bip perché poi dopo il video prosegue con degli insulti che non sono televisivi quindi forse sarebbe il caso di evitare la prima parte è tutto un u u u u e la seconda parte è tutto insulti verso il giocatore e si sentono distintamente differenza ho detto prima che dalle ultime file si sente poco dalle prime verso le quali Lukaku probabilmente a quelle quali si rivolgeva lui sente distintamente quello che si sente vediamo vediamo solo la prima parte dai i primi secondi prego e dopo partono e poi partono gli obiettivi però ecco sì certo queste sono le prime file tu dici ci sta che Lukaku abbia avvertito lo sento cioè adesso senza stare a dire ma guarda altre volte ho già sentito eh ma non si sentiva bene tanto più che spesso ci sono dei giudici di gara che dicono Bon dell'effetto emettono si è sentito distintamente io mi ricordo anche per la vicenda di Curibali a San Siro io ero San Siro io avevo sentito pochissimo non so se avete letto il post sull'argomento di Rafa Leao dice vediamo subito Ibra ha subito corri razzisti nella partita contro la Roma dopo aver segnato il risultato ed è stato ammonito dall'arbitro quando prima era stato insultato da tutti i tifosi dalla Roma ma alla fine non c'è stata nessuna punizione ieri Lukaku ha ricevuto corri razzisti e ancora una volta dopo aver segnato ha esultato e chi è stato penalizzato il giocatore purtroppo questo atto continua a macchiare lo sport chiamiamo tanto razzismo out via IEM Rafa Leao mi sembra che Leao abbia spiegato perfettamente la situazione cioè in Italia puniamo il giocatore e ogni tanto si fa capire che qualcuno verrà punito no ma quello che aggiunge Leao secondo me rispetto al ragionamento che facciamo noi ed è qui lo scatto che secondo me manca a tutti noi e al calcio italiano quando dice e dopo non succede niente cioè c'è l'eco del 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 fatto però poi dopo non succede assolutamente niente questo è il ragionamento che fa Leao secondo me facendo un passo avanti rispetto quando noi lo dicevo prima quando noi parliamo di questi argomenti ma da quanto sono 12 anni che vengo qua 12 anni e prima anche da lettore da giornalista tutte le volte quando parliamo di razzismo o di argomenti simili la violenza degli stadi mi ricordo il periodo di Vincenzo Spagnolo facevamo uno due tre giorni di dibattito e poi si spegneva uno diceva vabbè certo devi passare ad altro sì ma quando si spengono i riflettori sulla vicenda teoricamente seriamente le istituzioni dovrebbero pensare a organizzare il sistema per evitare che accada in futuro ecco perché ho detto l'elemento culturale che non vuol dire soltanto parlarne quando accade l'episodio ci vuole un qualcosa ci vuole un tavolo permanente perché se è un problema com'è stato un problema il discorso della violenza degli stadi sono dei morti ci sono stati non ce l'abbiamo risolto io sono entrato in uno stadio a 12 anni un Inter Milan è stata l'ultima volta per fortuna che tra Inter e Milan c'è stata una rissa clamorosa a secondo anello c'è stato anche un morto nel Derby sicuramente è stato risolto allora se si è affrontato per vent'anni il problema è stato risolto perché adesso le cose avvengono fuori dallo stadio ma avvengono ancora vuol dire che tu devi fare qualcosa invece noi i problemi sotto il tappeto via mettiamoli sotto il tappeto allora parliamo anche dei problemi del campo perché Lapo ti chiedo cosa c'ha detto la partita di ieri che l'Inter gioca sempre allo stesso modo costruisce abbastanza bene fa un buon possesso palla continua a giocare come a palla a mano cioè in orizzontale destra-sinistra sinistra-destra costruisce poco non sei contento ma non è che non sono contento è che se Allegri ha parlato di pareggio giusto sì è un pareggio giusto ma non è questione di giusto o sbagliato perché l'Inter ha perso anche con la Fiorentina non meritava di perdere però l'Inter continua a costruire palle e golle però se permetti se permetti nell'occasione soprattutto nel secondo tempo ha costruito ma di palle e gol c'è quel tiro di Mkhitaryan Mkhitaryan e basta il tiro fuori nel primo tempo il diagonale fuori nel primo tempo è uscito secondo ma solo nel secondo tempo no nel primo tempo una parata no nel primo tempo dai su adesso se mi neghi che l'Inter ha avuto 7-8 palle e gol ieri con la Fiorentina meno male che non parliamo di terra se no direste che è piatta che stiamo qua a dimostrare che è gol 7-8 palle e gol nessuno le ha viste 7-8 palle e gol ma l'apo con la Fiorentina le ha avute nettissime allora vi leggo ah no dicevo ieri con la Fiorentina si stavamo parlando l'Inter Fiorentina vi leggo cosa ha detto vabbè stavamo parlando ok va bene vi leggo cosa ha detto Marotta nel prepartita con Inzaghi fiducia pluriennale ma senza Champions cambiano i piani cioè non sembra mai esserci l'apo ma come fai esserci cioè tu rischi l'anno prossimo l'Inter adesso noi abbiamo detto io ho fatto sono arrabbiatissimi per quello che ha accaduto ieri in questo do ragione do ragione all'apo perché riguarda anche il Milan una cioè la Champions non sposta di un centimetro i piani i programmi sposta di parecchio però Pioli non sembra poi magari mi ha messo in discussione in caso di non qualificazione sto parlando dei programmi dei piani degli investimenti sì qui il riferimento particolare è inzaghi non è tanto inzaghi c'è una fiducia ma è tutto molto strano chiaramente non voglio rubare la scena però mi sembra che abbiamo una situazione nella quale c'è un allenatore che ha speso delle parole anche molto gravi nel confronto della società quando ha detto che lo scudetto ha portato via dei soldi e che quindi hanno l'obiettivo dello scudetto ha impedito di fare una squadra più competitiva perché sono stati spesi troppi soldi con Conte e con lui questo era il messaggio Inzaghi fa per me non è il vero è unico colpevole dell'Inter è certamente uno dei responsabili ma non è l'unico colpevole dell'Inter è un tipo di allenatore che non è gradito perché ha una comunicativa che evidentemente è una comunicativa fallace perché comunque dice sempre le stesse cose ripete più o meno lo stesso tipo di Raffaele a me interessa che Zaghi faccia una cosa diversa lui vedo che utilizza gli stessi uomini non gioca mai a Slani non gioca mai a Belanova spreme al massimo Lautaro spreme sempre gli stessi undici ho paura che l'Inter pareggiando con la Juventus sia concentrata ha speso energie fisiche e nervose poi va a Salerno e succede come a Bologna come a Spezia e come a mille altre occasioni cioè quello che è accaduto con la Fiorentina l'italiano gioca contro l'Inter per 70-65 minuti fa il gol si mette a 3 dietro e quindi cosa deve fare per salvare la panchina? a 5 dietro cosa deve fare per salvare la panchina? cosa deve fare? non può fare niente perché lui non tradirà mai se stesso quindi è condannato lui deve sperare il suo gioco prevede che o l'Inter gioca la grande cioè i giocatori devono essere concentrati e stare bene fisicamente allora il 3-5-2 l'Inzaghi funziona con la Juventus è funzionata a metà mentre invece quando qualche giocatore si spegne per esempio Lautaro non segna più l'Inter non segna da 5 partite non fa un gol vuol dire che ha fatto 2 gol su calci di rigore ok quindi tu mi stai dicendo che Inzaghi sicuramente non sarà più l'anno prossimo questo è scontato l'unico motivo per cui Inzaghi sarebbe nella panchina dell'Inter l'anno prossimo se vince la Champions diciamo vince la Champions no arriva il finale di Champions League vince la Coppa Italia e arriva secondo in campionato terzo terzo in campionato allora ti posso dire Inzaghi resta così come si mettono le stazioni al momento non mi sembra che possa rimanere ma puoi dire questo è un argomento che abbiamo già trattato poi vi faccio vedere chi c'è dopo Inzaghi trattato più di una volta il lunedì ah il lunedì non adesso più di una volta il lunedì visto che almeno dieci volte visto che l'Inter ne ha perso i dieci l'abbiamo trattato e io non contesto il fatto ci mancherebbe che l'Inter decida di cambiare allenatore specialmente se non rispetta gli obiettivi prefissati minimi ma io voglio capire il signor Marotta che ripeto è considerato in assoluto il miglior dirigente italiano e quindi figuratevi gli altri no il miglior dirigente italiano con un buco di bilancio è così e con questa comunicazione particolare perché negli ultimi due mesi ogni volta che l'Inter perde Marotta fa capire che non è contento di summit cose è certo che se non arriviamo nelle prime quattro tutte cose giuste ma io vorrei capire a livello pratico se lui dicesse beh ora finiamo siamo in corsa per la Coppa Italia siamo in corsa per andare a Champions e siamo perché parlare dell'allenatore a fine anno vedremo no lui dice eh no certo che se non arriviamo nei primi quattro cavo è ovvio che lo faccio fuori ma lui aveva già detto l'aveva già detto bene le coppe ma l'obiettivo lo scudere l'aveva già detto sì è certo che non possiamo prescindere tante volte l'ha detto perché perché questo attacco a Inzaghi in corso d'opera non ti piace pare che se io fossi scusa finiscono attacco mi permesso io lo attacco le parole lui spesso ha attaccato Inzaghi secondo me perché ha paura di essere attaccato lui invece attacca fa prima perché è la migliore sì la migliore difesa attacco ma se io fossi Zang per esempio gli direi scusi ma signor Marotta ma se questo Inzaghi è un pippone perché l'ha rinnovato il contratto scusa ma sono domande ma perché io chiedo chiedatelo perché continua a dire frasi non tranquillità anche di facciata anche di facciata anche ipocrite fai quello che vuoi su intanto il calcio è la fiera dell'ipocrisia no questa volta dobbiamo trovare uno perché Leonardo guarda che io ti sto dando ragione volevo sottodetti che l'unica cosa che sbagli però è che dici attacca Marotta non attacca è un attacco tante volte l'abbiamo detto attacco a Inzaghi c'è una bella differenza tra attaccare e non difendere allora se vi dite Inzaghi non difende e Marotta non difende Inzaghi siamo d'accordo se dici che lo attacca non siamo d'accordo e se Malta c'è una bella differenza siamo borderline se per esempio Franco Ordi non capisce niente io sto zitto non è che ti sto attaccando sto zitto lascio che Franco ti dica ma è una domanda interessante obiettivamente quella di Martinelli cioè perché non lo difende visto che comunque si sta giocando agli obiettivi importanti ma guarda secondo me qui c'è è evidente una come dire posizione da parte della dirigenza che tenda in qualche modo di giustificare il proprio operato e che obiettivamente nasce in condizioni complessive molto difficili e molto complicate senza diciamo trascinare sul banco degli imputati l'azionista ma come dire senza nemmeno assolvere completamente l'allenatore quando Massimo Moratti presidente dice non prendetevela con Zang prendetevela con tecnico e dirigenti fa un un ragionamento del quale Marotta è consapevole e quindi deve a questo punto dare una risposta anche perché dall'altra parte c'è adesso la pressione del pubblico della curva che dice se continuate così non vi tratteremo in maniera diversa rispetto a quanto ha fatto fino a adesso al di là di questo gioco diciamo delle parti entrando nello specifico e nell'esame calcistico della partita di ieri sera io ho visto una partita nella quale secondo me il risultato è onestamente giusto ma non solo come la detta Lega ma è proprio così e poi secondo me un'altra cosa che aggiungo è questa e cioè nel secondo tempo dove si è visto la Juventus rinunciare praticamente a giocare la partita e aspettare solo una vera più a metà campo l'Inter l'Inter ha avuto il comando del gioco però lo ha fatto A a velocità ridottissima B creando una sola grande occasione da gol che è quella di Mkhitaryan prima del rigore ora e questo rispetto a però dai il pareggio all'ultimo minuto per un'ingenuità di Bremer su calcio di rigore quantomeno ha evitato un'altra sconfiggia oggi saremmo parlando di una situazione certo dico travallante se guardi allora per quello che riguarda la partita complessivamente sono d'accordo è un risultato giusto se stai a guardare il possesso palla e il gioco l'ha fatto molto di più l'Inter anche se come diceva adesso andavano veramente a due all'ora io guardando il calcio inglese ieri sera dicevo madonna mia guarda che roba però detto questo l'Inter se non avesse avuto pensa ti ho detto avendo più possesso palla avendo più gioco se non avesse avuto l'occasione del rigore dell'erroraccio di Bremer qui ci dimentichiamo anche l'occasione a porta vuota di Milik che ha avuto la Juve e quindi l'Inter per dirti che l'Inter produce tanto quella di testa distrutto no no quella che è arrivato in scivolata che l'ha buttata fuori a porta vuota l'ha buttata fuori produce tanto concretizza poco il problema però allora lì io dico Inzaghi fa giocare bene la squadra creano le occasioni se poi i giocatori non la buttano dentro è una cosa che non condivido nel senso che la faceva giocare bene fino a dicembre del 2021 no con la Fiorentina hai giocato bene no bene è un'altra cosa nel senso che per me può essere spettacolare è stata una gara a viso aperto perché la Fiorentina ti fa giocare a viso aperto la Fiorentina è l'unica squadra che è venuta a Milano che ha giocato a calcio e uno dice caspita è una straordinaria occasione quindi puoi arretrare Lukaku e Dzeko e allora sfrutta la loro velocità e quant'altro ma nel gioco di Inzaghi in questi due a tre anni per motivi che io non capisco se c'è una cosa che vorrei chiedere alla dirigenza all'allenatore ma perché avete rinunciato a qualunque giocatore saltiluomo al punto che Michi Tariana improvvisamente è diventato il driblomane dell'Inter Michi Tariana che non è esattamente quello del suo mestiere però è bravo ha la nostra età c'è la Noglu salta l'uomo ma non ha giocatori che saltano l'uomo tu cosa fai? costringi la squadra sì sì è un limite dell'Inter è proprio una scelta di Inzaghi lui costringe la squadra a stare nell'area avversaria nella metà campo avversaria ma non ne ha in rosa non ne ha in rosa ma i giocatori che sono veloci quello che condivido di Lapo che è un mio vecchio cavallo di battaglia è questo secondo me al netto degli infortuni delle cose eccetera lui non ha valorizzato nessuno dei nuovi acquisti e nessun giovane nessuno dei nuovi acquisti fatemi andare un attimo in pubblicità torniamo ripartiamo da qui vi faccio vedere chi c'è in testa nella testa di Marotta per il dopo Inzaghi a tra poco